Buongiorno a tutti, a tutte, a tutte le persone intervenute alla nostra terza lezione del nostro corso. Chiudiamo quindi questo mini blocco sulla geopolitica, con cui abbiamo voluto dare l'avvio al nostro corso, subito dopo la scuola. Lo chiudiamo dopo aver trattato in maniera più generale i temi nella lezione scorsa, lo chiudiamo invece con un focus più in particolare sull'Italia, sulla posizione del nostro paese nel contesto internazionale, su come questa vedremo, insomma, grazie a Dario Fabri, analista per conto di Limes, giornalista di lungo corso a questioni geopolitiche, esperto anche in sicurezza, quali sono le possibilità che la pandemia eventualmente possa incidere in questi rapporti, ma che qualche cosa nei rapporti possa cambiare, sembra scontato. Del resto qualche avvisaglia già ce l'abbiamo avuta quando è cominciata, diciamo, la crisi pandemia, che ci ha investiti innanzitutto, ecco, noi siamo stati il primo paese occidentale a essere investito in maniera seria. Già lì si è visto qualcosa, ma poi molto è successo, qualcosa abbiamo raccontato nella scorsa lezione, che era prodromica rispetto a questa, oggi valuteremo meglio quali scenari si aprono per il nostro paese, se effettivamente siamo ancora a terreno di contesa e in che termini, o se invece possiamo confidare su una fedeltà, diciamo, di spirito all'allenanza atlantica e all'Europa soprattutto. Di questo parleremo dunque di Dario Fabri e a questa lezione ci introdurrà Marco Corno, che vorrà anche qualche interrogativo particolare, ma Marco Corno è il nostro principale analista, partizio politico, vi lascio a lui la parola e ricordo che al termine della seconda, diciamo, relazione di Fabri, intorno alle 11.30 immagino, corso modo, apriremo poi la parte con il nostro spazio per gli interventi, che come sempre saranno non lunghi, è possibile porre anche degli interventi di tre minuti circa, ogni tre domande poi provvedremo con le risposte. Andiamo come al solito, secondo il nostro schema concetto. Buongiorno e buona lezione a tutti. Prego Marco. Grazie Luca. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Oggi con Dario Fabri parliamo di geopolitica e in particolare al modo del nostro paese, dell'Italia. In questo senso sorge spontanea la domanda, perché parlare di geopolitica in Italia in un momento storico come questo? Beh, possiamo dire che in un certo senso la risposta ce la dà la geografia. L'Italia è collocata nel Mediterraneo, che non è più soltanto un mare, ma è un grande spazio geopolitico, in cui gli stati competono al suo interno per controllarlo, per controllare le acque territoriali. Ed è un mare che sta diventando così importante e così cruciale per gli equilibri regionali e mondiali che si parla non più di Mediterraneo, nel senso stretto del termine, ma di Mediterraneo allargato, proprio per indicare come tutto quello che succede nel Mediterraneo si riflette anche sulla stabilità delle regioni limitrope. Pensiamo per esempio al Corno d'Africa, le recenti vicende in Etiopia, che insomma dimostrano che questa parte dell'Africa è destinata a ricoprire un ruolo geopolitico sempre più importante. Altri esempi invece più vicini a noi pensiamo alla Turchia, che sta espandendo sempre di più e rafforzando la propria sfera di influenza dal Mediterraneo orientale fino alla Libia, entrando in competizione, possiamo dire, con la Grecia, entrando in competizione con la Francia, entrando in una sorta di competizione, cooperazione con la Russia, l'abbiamo visto in Libia e in altri scenari, come il Caucaso, il Medio Oriente in Siria. Insomma, sono tutti segnali che ci dicono che qualcosa sta cambiando e che questo mare sta diventando sempre più caldo. E l'Italia si trova al centro, possiamo dire, di questo grande campo di battaglia, eppure non riesce a cogliere quelli che sono i cambiamenti in atto, l'importanza, la rilevanza di essere protagonisti attivi di questi cambiamenti. Nonostante, possiamo dire, la geografia imponga all'Italia, in un certo senso, di avere una grande strategia da declinare poi a livello tattico, a livello di politica estera, se non altro per la propria sopravvivenza e per la propria sicurezza nazionale. Eppure questo non avviene. E' come, o comunque fa fatica a realizzarsi. E' come se il nostro paese soffrisse di una sorta di miopia geopolitica che fa sì che Roma si senta parte dell'Europa, dell'Unione Europea, guardi a nord d'Europa, guardi oltre Alpe, ma faccia fatica ad accettare che sia nel Mediterraneo e quindi ad accettare il fatto di essere nel sud, di avere un fronte nel sud del mondo da considerare in cui essere fortemente competitivi. E proprio da questo punto voglio partire con la prima domanda a Dario Fabri. La geografia, proprio dalla geografia che in geopolitica è fondamentale, è uno, diciamo, dei pilastri fondamentali di questa disciplina, di questo approccio. Perché l'Italia fa fatica a vedere nel Mediterraneo un'opportunità in cui investire, essere competitivi e invece lo vede come qualcosa da cui star lontano, quasi come se fosse un muro che divide l'Italia dal resto dal resto dell'altra civiltà, degli altri continenti come il Nord Africa, il Medio Oriente. Quali sono le motivazioni alla base? Sono antropologiche, storiche, sociologiche? Ecco, questa è la domanda. E poi, l'Italia potrà mai essere, come io spero, una potenza euro-mediterranea? Prego, Fabri. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito, grazie a voi per essere qui, grazie anche per questa introduzione. molto complessa, nel senso che ci pone davanti ad un quesito che è il quesito per eccellenza della strategia o non strategia italiana. Il nostro rapporto con il mare, con la duplicità della nostra collocazione. Perché l'Italia è certamente un paese al centro del Mediterraneo, ma è anche un paese che si appoggia alle Alpi e che quindi poi entra dentro la penisola europea fino a risalirla. Questa duplicità, che dovrebbe essere una forza, o perlomeno una risorsa, della nostra strategia, è un'amputazione in realtà, è quasi una schizofrenia. Perché il nostro rapporto, potremmo dire con entrambi i versanti della nostra collocazione, ma soprattutto il nostro rapporto con il mare è qualcosa da impazzimento. proviamo a capire perché. Tu citavi la geografia come base della geopolitica. Niente di più vero. Se non fosse che in Italia la geografia proprio non si studia. Anche laddove ancora esiste, quindi più o meno, voi correggetemi, io la studiai alle medie, poi ho fatto liceo classico, non mi ricordo nemmeno ci fosse geografia all'iceo classico. Mi sembra proprio di no, vado a memoria, ma o se c'era, era veramente relegata ad una mezz'oretta a settimana, la geografia che rimane è quella della barbia a betola da zucchero, il riso, poi i fiumi, tutte cose peraltro anche importanti, intendiamoci, le dodici province della Lombardia nel frattempo sono aumentate, la una bulite arriveranno a 40, credo, nei prossimi decenni, eccetera, eccetera. Ma l'approccio consistente della geografia che la rende una disciplina fondamentale è assolutamente inosservato. Esempio, che effetto hanno le caratteristiche orografiche, ad esempio le montagne, i monti, le catene montuose, sull'esistenza di una collettività, ma non soltanto antropologica, e felici possiamo arrivare. C'era un bellissimo racconto di una signora olandese, quindi proveniente dai paesi bassi, il paese che è sotto il livello del mare, che per amore si trasferì a Trento. Si sposò lì, l'ho incontrata qualche anno fa, e mi diceva, io le prime notti a Trento non riuscivo a dormire, perché avevamo questa casa con la finestra che dava sulla parete delle montagne, e avevo l'impressione che mi cadessero addosso, dice, non le avevo mai viste. Dice, io in questo modo le montagne non le avevo mai viste. Questo per dire che poi anche a livello psicologico la geografia ha un effetto netto sull'esistenza degli esseri umani, ma fin qui dico ci possiamo anche arrivare. Ma che effetto strategico ha? Beh, questa è materia più complessa e molto poco indagata. Se noi chiedessimo, esempio, in Italia si studia essenzialmente l'economia e ancora peggio la politologia, ma se noi chiedessimo perché Orban, quindi siamo in Ungheria, tutto sommato fra i leader centro-orientali dell'Europa è quello che ha meno paura della Russia, è quello che ha un rapporto migliore con Putin, è quello che, a differenza dei polacchi o dei romeni o dei baltici, non lancia strali di disperazione o di grande aggressività verso Mosca. Addirittura, notizia dell'altro giorno, l'Ungheria fino adesso è l'unico paese d'Europa che ha colto dosi del vaccino russo, bocca al lupo, insomma, perché comunque il vaccino russo che sarà migliore degli altri, intendiamoci, non è ancora scientificamente nessuna pubblicazione che ne attesta neanche la sperimentazione, quindi è proprio un approccio fideistico quello ungherese. Ma perché? Le motivazioni possono essere molteplici, quindi ci può essere detto perché Orban è un cattivone come Putin, andiamo a simpatia, oppure non so chi ha, ognuno ha le sue perversioni, oppure è un grande leader come Putin, ognuno la vede come cavolo vuole, oppure perché tra uomini forti si intendono sciocchezze di questo tipo. In realtà gli ungheresi storicamente hanno sempre avuto meno paura dei russi, pagandola anche sulla loro pelle, come sappiamo durante la guerra fredda, degli altri europei centroorientali, ma perché in mezzo ci sono i Carpazzi, che non è esattamente un dettaglio, cioè sono schermati dalla Russia da una catena montosa che altri non hanno, neanche i serbi hanno paura dei russi, perché tra loro i russi c'è molta strada e una catena montosa, i polacchi questo lusso non ce l'hanno, vivono sulla pianura sarmatica e essenzialmente arrivare in Polonia dalla Russia è un'autostrada tutta dritta senza rilevi orografici e viceversa, intendiamoci, la Russia anche ha da sempre nella sua strategia difensiva, la Russia ce l'ha, a differenza di noi, da sempre nella sua strategia difensiva il terrore di essere invasa, perché invadere la Russia è molto semplice, può rimanerci, è un altro discorso, rimanerci è molto complicato, gli italiani ne sanno qualcosa, gli italiani, quindi non l'Italia, hanno invaso sei volte la Russia nel corso dei secoli, senza riuscire mai a rimanerci, questo ci dà l'idea di quanto sia semplice arrivarci, quindi questo studio, questi sono esempi sommari, ma questo studio della geografia, di carattere strategico non esiste alle nostre latitudini, non è neanche pensabile, non si può neanche pretendere per carità, voglio fare lo snob, ma non si può neanche pretendere che un professore delle medie o del liceo abbia una formazione strategica che in Italia non c'è, cioè non è colpa del professore in quanto tanto, però obiettivamente l'accesso non c'è, anche l'università, quando io anche ho studiato geografia politica, ma geografia politica è proprio un'altra cosa, le capitali da barbabietola da zucchero che ritorna sempre, la nostra geografia è barbabietola da zucchero, più o meno ne siamo tutti esperti, ma l'aspetto strategico non c'è, senza per carità le scorie del determinismo che spesso un approccio strategico alla geografia può comportare, però avercele può essere utile. Che cosa c'entra tutto questo con la nostra proiezione euro-mediterranea, con il nostro esistere in mezzo al mare e attaccati all'Europa? Beh, c'entra molto, c'entra quasi tutto, dico quasi perché poi c'è l'elemento antropologico e strutturale che valuteremo che è molto importante, perché l'Italia ha una concezione di sé che è puramente ageografica, cioè gli italiani che vivono in una penisola con due isole maggiori molto grandi, peraltro, semplicemente una, la Sicilia, la più importante isola del Mediterraneo, da sempre, non da tempi recenti, per informazioni, insomma, citofonare ai cartaginesi, romani, greci, chi volete, persiani, metteteceli tutti, ecco l'Italia che ha queste caratteristiche, ha orrore del mare essenzialmente, noi abbiamo un rapporto col mare molto distante, ci facciamo il bagno d'estate, punto, non c'è, nella speranza di non rimanerci dentro, ma non c'è grande rapporto, non siamo una nazione, si direbbe, talassocratica, cioè non siamo una nazione che ha il mare nella testa, che vuol dire rovesciare la nostra proiezione, cioè guardare la terra dal mare, noi no, noi guardiamo il mare dalla terra e anche con un discreto orrore, anche con molta paura, il mare ormai da molti decenni nel nostro paese, ma lo è quasi sempre stato dall'Ottocento ad oggi, tranne alcune parentesi, è portatore di sciagure, di disgrazie, non è un atteggiamento strano nella storia dell'essere umano, intendiamoci, è più difficile essere una nazione talassocratica che non esserlo, anche stando sul mare, perché cambiare prospettiva è molto complicato e molto doloroso e anche molto violento. Atene, qui di parlo dell'antica Grecia, che fu certamente la prima grande talassocrazia pseudo d'Occidente, nel senso che Atene si è sempre posta a metà tra l'Occidente e l'Oriente per come lo intendiamo noi, il Levante, ma comunque gli Atenesi diventarono marittimi per paura, per uno shock, quando videro arrivare i Medi, i Medi erano una popolazione persiana, questi videro alle fiamme l'acropoli. C'è un bellissimo passo di Ops che raccolta questo momento e dice allora gli Atenesi si lanciarono sulle barche nel porto di Atene per non crepare nelle fiamme dell'acropoli e dalle barche non sono più scesi. Ed è esattamente così, diventando una città-stato come erano all'epoca quindi una nazione per come la possiamo intendere oggi, sebbene demograficamente limitata, che viveva esclusivamente sul mare, che guardava gli altri dal mare. Da noi tutto questo ovviamente non c'è e proviamo ad indagare le ragioni attuali per cui questo non c'è. Una l'abbiamo più o meno descritta, l'assenza di consapevolezza geografica, cioè più o meno dove siamo non c'è non c'è chiarissimo. Sì, ci rendiamo conto di avere qualche mare che ci bagna, almeno tre principali, il Tirreno, l'Adriatico, l'Oionio, ma lì ci fermiamo, punto. E poi ci sono altre ragioni, storiche, antropologiche, di struttura del nostro Stato. Partiamo da quelle storiche, storiche riguardanti l'Italia unitaria ovviamente senza andare Roma era ovviamente una formidabile potenza talassocratica, insomma torniamo qualche tempo addietro tra l'altro anche Roma lo diventò in tarda età durante le guerre puniche quando comprese che per sconfiggere il nemico semitico dell'epoca Cartagine era necessario diventare una potenza talassocratica ma addirittura i romani che non lo erano inizialmente durante la prima fase delle guerre puniche passano alla storia per decidere di combattere contro i cartaginesi sulle navi come fossero a terra cioè si agganciano con il famoso gancio per l'appunto si agganciano alle navi cartaginesi per combattere corpo a corpo inizialmente questo decreta la vittoria dei romani ma poi tornando indietro davanti alle coste della Sicilia molti di queste navi si rovesciano perché il gancio che avevano costruito era troppo pesante quindi faticarono molto i romani poi divennero ma parliamo ovviamente se non forse della civiltà più alta della storia dell'uomo insomma se la gioca si direbbe in gergo sportivo con qualche altra civiltà quindi è un esempio un po' troppo alto però resta il fatto che noi storicamente dall'Italia unitaria non abbiamo questa idea e perché andiamo andiamo nei dettagli l'Italia anzitutto è stata costruita l'Italia unita da una Prussia particolare che era il Piemonte cioè il regno Sabaudo il regno di Savoia ed è stata costruita al di là di quanto ci viene anche legittimamente raccontato la nostra pedagogia nazionale la pedagogia nazionale non deve dire la verità questo qualcuno sverrà non ha la pedagogia nazionale cioè quindi l'insegnamento nelle scuole della storia non ha come massimo attributo la scientificità deve servire a formare il modello culturale della nazione che inevitabilmente ha al suo interno delle bugie o comunque mettiamola così delle omissioni ecco mettiamo così quindi l'Italia unitaria nasce per volontà del Piemonte anche contro una buona fetta della popolazione che poi sarebbe diventata italiana soprattutto meridionale che ha subito l'unificazione come una colonizzazione sebbene poi il brigantaggio sia stato derubricato ad elemento di pura criminalità il brigantaggio era una rivolta civile è trattata da tale all'epoca dai piemontesi con piglio coloniale all'epoca si scriveva Africa con due F e quella era l'Africa dove sedare le rivolte poi derubricate nei nostri libri di storia a brigantaggio anche se adesso c'è una certa pubblicistica che le va riscoprendo per quello che erano ma il Piemonte potete immaginare tutto era tranne che una piccola nazione marittima per niente non aveva una concezione di sé legata al mare sì aveva dentro Genova che peraltro soffriva la presenza piemontese non era per niente felice di vivere nel regno di Sardegna lo considerava un scadimento della sua antica potenza ma non era una potenza marittima e durante la fase unitaria tutti sappiamo è arcinoto l'apporto francese all'unità d'Italia molto meno noto a proposito di pedagogia nazionale che sceglie con un discrimine di che cosa trattare di cosa meno molto meno noto ad esempio il sostegno inglese all'unità d'Italia sostegno inglese che fu decisivo specialmente nel sud d'Italia nel 1860 lo sbarco dei mille non sarebbe stato possibile senza il bene placito del Regno Unito ma letteralmente non sarebbe stato possibile perché la la marina piemontese che copriva i garibaldini sui piroscafi non era paragonabile a quella borbonica la marina dei borbone era nettamente superiore a quella piemontese non sarebbe stato possibile uno sbarco dei mille cioè ciò che non emerge nei nostri libri di testo ma come hanno fatto i mille si capisce cioè questi sono partiti bea di loro meno male intendiamoci tutti tutti ne siamo contenti credo nessuno avrebbe voluto vivere negli stati negli stati preunitari per carità ma questi mille baldanzosi più o meno mille sono partiti dalla Liguria e sono arrivati in Sicilia ed hanno sbaragliato l'esercito di una potenza come era il regno delle due Sicilie ma prima ancora sono sbarcati nella rada di Marsala durante lo sbarco di Mila nel 1860 la presenza della marina britannica fu decisiva perché impedì alla marina borbonica di fare ciò che avrebbe fatto con facilità sventare lo sbarco e perché oggi ci interessa parlarne perché la scelta degli inglesi all'epoca fu quella di sostenere il Piemonte contro il regno delle due Sicilie perché il Piemonte non era una potenza marittima e lo era perlomeno molto meno del regno delle due Sicilie che invece rompeva le scatole nel Mediterraneo centrale aveva una flotta commerciale di tutto rispetto ma anche quella militare era certamente la più importante degli stati preunitari italiani o italici questo politicamente non possiamo chiamarli italiani ed era un avversario per esempio nei mesi che precedono il 1860 sui pochi all'epoca quotidiani inglesi l'astio nei confronti del regno delle due Sicilie sembrerebbe incomprensibile addirittura viene definito in alcuni velenosi editoriali il regno delle due Sicilie la realizzazione del male sulla terra insomma è tanta roba è un po' è un po' troppo mettiamola così non che Ferdinando II fosse il monarca più illuminato della terra ma c'era anche di peggio bastava farsi un giro per il pianeta il punto è che il regno delle due Sicilie rompeva le scatole nel Mediterraneo il sostegno che arriva da parte inglese alla nostra unità è un sostegno strumentale utilitaristico interessato chiamatelo come volete perché si immaginano ed hanno ragione che l'Italia dominata dal Piemonte nella sua unità non sarebbe mai diventata una potenza marittima e i calcoli erano stati corretti quindi già storicamente nasciamo così nasciamo con l'aiuto di una potenza talassocratica una delle più grandi di tutti i tempi ovviamente Eghilterra nazione talassocratica per eccellenza che ci sostiene per dolo essenzialmente nel 1800 peraltro l'Inghilterra aveva sottratto l'isola di Malta che era sempre stata di influenza di influenza italiana perché siciliana essenzialmente i maltesi chi sono? sono dei semiti cioè sono una popolazione di lingua più o meno araba che si esprime in una lingua che è altrettanto araba con forte inflesso siciliano e di religione cattolica per questo non sono semiti come gli altri perché sono profondamente cattolici non sono stati resi musulmani come è capitato ad esempio alle sponde del Nord Africa quindi storicamente nella sfera di influenza italiana fino al 1800 quando gli inglesi l'hanno inventata come nazione a sé rendendo la colonia ed oggi a noi non ci trae sa niente Malta non fa niente di quello che il governo italiano il governo di Roma le chiede mai neanche morta ed ha un'idea fusticciamente britannica noi siamo fenomenali mandiamo i nostri figli a studiare l'inglese a Malta che hanno chiuso i manicomi ma insomma se dovessero riaprirli non ce lo auguriamo penso che avremmo di diritto un posto riservato perché andare a studiare inglese a Malta va bene tutto Malta è stata creata falsamente anglofona in funzione antitaliana adesso parteciparne anche mi sembrerebbe un po' troppo ma agli italiani questo non interessa niente quindi figurarsi se è possibile parlare quindi storicamente nasciamo in un contesto già così aggiungiamoci un'altra ragione per poi vedere che cosa significa nel concreto non avere una proiezione marittima al giorno d'oggi nel Mediterraneo e quello che sta capitando nel Mediterraneo aggiungiamoci che come tutte le nazioni anche l'Italia ha un suo modello culturale lo suo modello culturale è preciso dominante un po' particolare nel nostro caso perché non è esattamente corrispondente all'aspetto linguistico anche oggi ci esprimiamo questo nostro incontro in una forma di fiorentino standardizzato che noi chiamiamo italiano che è il fiorentino in una versione standard resa tale cioè convenzionale anche qui ci è andata molto bene perché è probabilmente la lingua più bella del pianeta non si offenderanno i nostri amici lombardi insomma Manzoni se ne accorse discretamente dice no dopo la prima redazione di Promessi Sposi dice non si può sentire dice meglio meglio farsi un viaggetto a Firenze ma già qualche secolo prima l'italiano ha una storia eccezionale perché non si impone sulla penisola con la forza è veramente un caso molto raro di solito la lingua l'accento anche nelle nazioni avviene per imposizione del modello più forte di chi è più forte all'interno del paese da noi viene scelto l'italiano perché è semplicemente più bello cioè il fiorentino pardon viene scelto fra gli idiomi italiani perché è più bello è tipicamente italiana questa cosa è scegliere la bellezza in quanto tale ma anche molto rara ma al di là della lingua il modello culturale che in Italia è preminente insomma è quello settentrionale non possiamo nasconderci nei decenni dal piemontese si allarga la lombardia essenzialmente del piemontese lombardo il napoletano che è un'altra lingua altissima probabilmente anche più musicale del fiorentino se non più bella ma più musicale probabilmente sì è considerato basso in Italia è un vernacolo di espressione bassa queste scelte sono arbitrarie cioè non è non è scritto da nessuna parte ma è la nostra convinzione perché il modello culturale che si può nel nostro paese non è napoletano certamente non lo è il razzismo è inverso quindi il modello culturale del nostro paese è il modello culturale come avete già facilmente intuito di due regioni che l'ultima volta che ho controllato non stanno sul mare cioè il Piemonte e la Lombardia e che quindi come capita nei paesi guardano al mare con grande lontananza anzi anche qui si intreccia ad un fenomeno culturale si ha l'impressione nel nord Italia allargato anche laddove il mare c'è come in Veneto dove esisteva Venezia che qualcosa sul mare può dire mettiamola così l'impressione che il Mediterraneo sia un modo per ricacciarci in una esistenza minore cioè per farci sganciare dal progresso il progresso non è nel nostro posteriore nel nostro sedere quindi la parte del sedere dello stivale è a nord è nella testa è in Europa viene in mente le dichiarazioni da questo punto di vista dell'attuale leader di Confindustria che qualche settimana fa anzi qualche mese fa ormai aveva modo di dire che gli italiani sono mitteleuropei ecco questo modo di pensarci è qualcosa che ci segnala la prospettiva e la proiezione che abbiamo tra l'altro la mitteleuropa varrebbe la pena ricordarlo non esiste perché non si pronuncia così è mitteleuropa perché l'espressione tedesca mittele vuol dire di mezzo in tedesco e Europa in tedesco si dice oiropa con questa r ma la mitteleuropa viene inventata nell'inizio del novecento in funzione anti italiana addirittura per unire l'impero asburgico che aveva ancora notevolissimi brandelli d'Italia cioè Trento e Trieste unirla agganciarla a Reich tedesco è proprio un'idea poi per carità gli italiani piace e questa è anche una forma di intelligenza farsi prendere in giro è sempre una forma di intelligenza però anche anche dentro alcuni limiti possibilmente noi tendiamo ad essere bulimici per renderci un po' ridicoli però ricordandoci che la mitteleuropa è qualcos'altro rispetto a noi niente di male per carità il modello germanico è altissimo su molti fronti ma non è il nostro e nel momento in cui crediamo che sia il nostro sviliamo umiliamo la nostra proiezione strategica quindi abbiamo già una ragione storica di come nasce l'unità d'Italia non esattamente in funzione marittima anzi stringendo un patto non scritto con gli inglesi che prevedeva la nostra non proiezione marittima cioè noi vi aiutiamo ma voi fate l'Italia come il Piemonte e ci siamo riusciti benissimo non abbiamo avuto grandi difficoltà nel rispettare la promessa per una volta poi perché il modello culturale del nostro paese non è un modello culturale mediterraneo legato a regioni che non stanno sul mediterraneo e che hanno studicamente un rapporto difficile con il mediterraneo perché sono regioni alpine non per colpa insomma i lombardi ma anche gli emiliani che non sono parte del modello culturale dominante ma comunque c'è una bellissima canzone proprio Emilia di Francesco Guccini che racconta i padani in generale quindi anche i lombardi che dice dei fiumi della Lombardia ma anche dell'Emilia dice sono falsi avventurieri che trasformano i padani in marinai non veri scrive Guccini con questi versi molto belli che danno l'idea di che cosa significa non essere marittimi ma essere scambiati per gente gente di fiume che è altra roba quindi noi nasciamo in questo contesto in cui le regioni che stanno veramente sul mare l'Italia hanno un ruolo minore nello sviluppo culturale industriale politico del nostro paese e questo si riflette inevitabilmente le nazioni sono composte da esseri umani non basta stare in un luogo poi serve la percezione del luogo e la geografia visto che l'abbiamo detto all'inizio è sempre di matrice culturale non esiste geografia matematica credo che questo sia un altro elemento mi permetto di dire un altro grande limite dell'insegnamento della geografia cioè raccontarle la geografia come matematica quindi i punti cardinali c'è l'est c'è l'ovest nord e sud sono incontrovertibili non è vero niente di più arbitrario dei punti cardinali niente di più arbitrario della geografia che è pura cultura è pura strategia prendiamo gli Stati Uniti ci serve per capire la differenza fra Lombardia Piemonte e Midwest la parte dominante degli Stati Uniti sul piano culturale non è né la California ma noi vediamo troppe serie televisive ci sembrano più o meno la verità quindi scambiamo New York di France e la California come l'America quindi chiediamo che siano metonimia cioè li prendiamo come parte per il tutto in realtà la parte realmente consistente degli Stati Uniti è quella interna insomma se gli americani fossero California e New York sarebbero un paese altissimo come peraltro sono per molti versi ma molto simile ad una nazione europea la sorta di grande Lussemburgo o di grande Londra fate voi non so che che passioni avete ci starà un essere umano che ha passione per il Lussemburgo ne dubito ma da qualche parte potremmo potremmo trovarlo il punto è che gli americani sono la prima potenza del pianeta quindi leggemono è globale perché vivono con il fucile alla caviglia ma lo fanno nell'entroterra non lo fanno sulle coste che noi frequentiamo per vacanze e scambiamo per il posto più alto che abbiamo visto ma il Midwest degli Stati Uniti non è per niente Midwest cioè letteralmente vuol dire medio occidente ma se voi lo mettete sulla carta geografica ed è la parte culturalmente più rilevante del paese sono per intenderci gli Stati che vanno dalla Pensilvania fino ai Grandi Laghi poco più a ovest quindi dalla Pensilvania a Minnesota per intenderci se voi lo vedete sulla mappa invece di essere Midwest dovrebbe essere Mid East è un medio oriente non è un medio occidente perché la Pensilvania è esattamente a destra degli Stati Uniti ma che gli americani chiamano Midwest questo perché nella loro concezione di immaginare la storia degli Stati Uniti le colonie creoli partono dalla costa orientale cioè dalla costa atlantica vanno verso l'interno ed essendo nell'ambito di un'impresa umana non hanno percezione di ciò che sarà non credono di arrivare al Pacifico per farla molto breve per loro quello già è occidente perché è più a ovest del punto di partenza quindi è già in medio occidente ma non è occidente per niente in realtà est ecco la geografia è questa i punti cardinali non esistono sono una percezione umana ma quel Midwest che non ha il mare cioè che non ha l'oceano nel caso americano è profondamente talassocratico e qui vediamo la differenza con la Lombardia e il Piemonte il Midwest ha i laghi e poi arriva fino al bacino del Mississippi che è il bacino idrografico idrico più grande del pianeta ma non ha il mare eppure per assoluta scelta così capiamo che vuol dire la pianificazione strategica gli americani rendono il Midwest la regione marittima per eccellenza del paese siamo davanti ad una follia apparentemente come se noi dicessimo l'Italia sta sul mare è una penisola le parti più talassocratiche della nazione devono essere Lombardia e Piemonte benissimo ma il mare non c'è c'è pure abbiamo deciso così ma perché quando arrivano alla fine dell'Ottocento gli Stati Uniti sono un paese più anziano del nostro la retorica racconta l'America come una nazione molto giovane in realtà l'America è la nazione più antica dell'Italia l'America nasce 70 anni prima dell'Italia che non sono poche però esistono da molto meno tempo di noi nella percezione almeno nel nostro percepirci non politico noi ci stiamo ovviamente da molti secoli in più ma alla fine dell'Ottocento gli Stati Uniti tutto erano tranne che una potenza marittima sebbene di tradizione originaria inglese non avevano un rapporto reale con il mare anche per colpa degli inglesi perché quando c'è la guerra di indipendenza e poi l'indipendenza degli Stati Uniti non è che l'Inghilterra la prenda benissimo e si pone come diaframma davanti alla costa atlantica degli Stati Uniti come diaframma tra gli americani e il mare cioè non si può uscire di casa non si può andare via mare perché ci sono gli inglesi di mezzo quando poi si stemparano le ostilità siamo verso la fine dell'Ottocento gli statunitensi scoprono di non avere alcuna percezione via mare e scoprono un'altra cosa che la loro demografia si sta ampliando moltissimo perché sono arrivati negli Stati Uniti quello che sarebbe diventato è tutto il primo ceppo etnico della nazione che non sono gli inglesi tantomeno gli irlandesi ma sono i tedeschi ancora oggi il primo ceppo etnico d'America sono i tedeschi che non hanno un grande rapporto col mare come potete immaginare la Germania non è un paese marittimo il mare ce l'ha ma non ha una visione marittima di sé ci ha provato nel corso dei secoli soprattutto tra la prima e la seconda guerra mondiale anche con eccezionali risultati perché sono tedeschi quindi quando si impegnano mediamente fanno fanno ciò che vogliono spesso anche danni però fanno letteralmente ciò che vogliono hanno capacità e disciplina quasi assolute però non sono una popolazione marittima allora che cosa fanno gli statunitensi di fino a 800? stabiliscono che dal momento che per essere una grande potenza è necessario essere una potenza marittima specialmente se tu vivi in un continente come quello nordamericano che è quasi un'isola ha soltanto i pesci a est e a ovest ci sono gli oceani poi sopra c'è il Canada che non è neanche un paese sovrano è formalmente ancora sotto la corona inglese sotto c'è il Messico che tra qualche decennio sicuramente diventerà un problema per gli statuiti sul piano della potenza ma non lo è oggi e allora tanto vale adeguarsi e difendere il paese dai mari questo stabiliscono ma per farlo si dicono dobbiamo coinvolgere la parte consistente della nazione cioè i tedeschi quelli che nel frattempo sono diventati americani ma che nascono tedeschi e dove vivevano e dove vivono ancora oggi soprattutto nel Midwest tutto questo lungo discorso per fare il paragone con l'Italia e allora si decide a fine ottocento l'idea di Teddy Roosevelt che è il primo presidente di cognome Roosevelt o Roosevelt come si dice in Italia che stabilisce che cosa che chiunque vorrà arruolarsi in marina deve passare dal Midwest dove il mare non c'è deve addestrarsi sul lago e ancora oggi da allora la prima base di arruolamento della marina americana cioè la più grande marina del pianeta ma più grande di gran lunga e 5, 6, 7 volte le altre ancora oggi che si arruola in marina negli Stati Uniti va sul lago trascorre i primi mesi del suo arruolamento nel Midwest dove il mare non c'è dove ci sono soltanto i laghi in particolare sul lago Michigan dove c'è la prima base di reclutamento perché questo? perché la parte dominante del paese deve partecipare del mare altrimenti il paese non può essere trassocratico è come se noi decidessimo che sul lago di Garda debba esserci la più importante base della marina italiana che chiunque in Italia sia a ruola in marina va sul lago di Garda o sul lago Maggiore non so però il lago Maggiore ha una parte straniera quindi ma può essere anche questo un motivo in più per metterci una base ma se ne può discutere il lago di Garda ha una base straniera non ce l'ha ed è anche il più grande quindi potremmo mettere lì una base ecco l'idea di una nazione trassocratica si fonda su categorie di questo tipo anche sul rovesciamento dell'aspetto antropologico non sei una popolazione di mare ti porto il mare esattamente dove sei cioè ti ci faccio diventare a forza questo in Italia non solo non esiste ma letteralmente non si sa neanche che cavolo sto dicendo cioè qualcosa che va oltre la concezione noi siamo mittel europei figurarsi e abbiamo l'impressione anche molto razzistica tipicamente settentrionale cioè dalla parte più produttiva più sviluppata anche sul piano civile della nostra nazione cioè il nord Italia l'idea è che il Mediterraneo sia uno scadimento della propria condizione cioè che il Mediterraneo confini con quella Caoslandia con quel nord Africa in alcuni casi confini anche con la Puglia per qualche milanese già abbastanza che ci può portare chissà dove ecco questo tipo di demenzialità umilia la nostra strategia inevitabilmente perché se tu vivi nel Mediterraneo ma non ti piace questo non è che può essere obbliato non è qualcosa che può essere condonato vuol dire non avere potenza è come se io stabilissi sono alto due metri e dieci ma sogno di essere uno e settanta e ogni volta che c'è una porta alta un'ottanta io vado dritto è la stessa cosa però l'ho sempre testata alla porta non è che per questo mi viene scusato a me il Mediterraneo non piace sono lombardo per ragioni incomprensibili mi sento mite l'europeo ma non è che questo alla tua strategia fa bene perché tu la stabilisci io domani decido di avere la politica estra della Finlandia perché mi piace non è che la posso realizzare non so se ho dato l'idea ma le ragioni per cui l'Italia non è un paese mediterraneo si legano ad un aspetto storico ad un'antropologico una la parte che decide poi le sorti del nostro paese che non è per nulla mediterraneo anzi ne ha orrore e l'altro è ultimo e chiudo prima di arrivare a parlare successivamente di che cosa vuol dire poi nel concreto non avere una proiezione mediterranea quindi andiamo a vedere che cosa succede oggi nel nostro Mediterraneo dopo aver fatto uno scavo che ha rovesciato mi auguro il principio di causalità a questo dobbiamo aggiungere l'aspetto demografico cioè l'età mediana avanzata del nostro paese ha inevitabilmente un effetto sulla nostra percezione del mare perché è chiaro che l'essere umano in assoluto per quanto riguarda tutti i fenomeni naturali ma è normale quello di cui è maggior terrore è il mare per forza l'aspetto più spaventoso delle cose che conosciamo non se ne vede la fine citare un'altra celeberrima canzone geniale che racconta il rapporto di un uomo di terra con il mare quella di Paolo Conte Genova per noi dice il mare non si ferma neanche di notte questa è una cosa intollerabile cioè neanche quando vado a dormire il mare sta fermo e questo non si può sopportare ed è un approccio geniale di un uomo di terra ma più la popolazione anziana più ha paura del mare inevitabilmente perché il mare è l'avventura per eccellenza perché il mare è l'ignoto per eccellenza più si è anziani più si ha paura dell'ignoto inevitabilmente l'incoscienza delle popolazioni giovani rende meno pauroso il mare il mare è peraltro un aspetto ancora più concreto il luogo la dimensione militare più pericolosa perché gli scontri che possono avvenire sul mare non sono paragonabili a quelli che possono avvenire via terra insomma spararsi via terra è proprio una scelta deliberata succede molto spesso nella storia degli uomini come ben sappiamo i mari può succedere anche senza volerlo cioè il mare può succedere di ritrovarsi gli uni contro gli altri e perdere il controllo della situazione o speronarsi a vicenda eccetera cioè lo scontro in mare è quasi sempre più letale e le grandi battaglie sono spesso marittime quelle decisive quindi una popolazione quella nostra che è mediamente anziana che ha un'idea della guerra come elemento anacronistico cioè crede di vivere l'evoluzione umana nella suo aspetto non belligerante che è il nostro massimo lusso noi viviamo una condizione di grande felicità grazie a Dio ma che non è l'evoluzione umana ai noi cioè gli altri non vivono le grandi potenze non vivono in questa maniera fanno la guerra o comunque psicologicamente sono inclini a fare la guerra e pretendono di farla soprattutto sul mare questo ci allontana ulteriormente dal mare perché ne abbiamo terrore perché è l'ignoto perché è l'aspetto imprevedibile perché è l'aspetto violento dove ci sono le grandi marine militari e aggiungiamoci a questo e chiudo in un massimo momento di schizofenia l'Italia ha un'ottima marina militare il che aggiunge complessità la complessità l'Italia non è un paese marittimo non è un paese mediterraneo nella sua concezione se non per chi vive in alcune regioni del meridione d'Italia ma che non hanno grande voce in capitolo nelle vicende del nostro paese non solo hanno grandi voce in capitolo alcune di queste esteticamente hanno avuto il terrore del mare a loro volta noi amiamo penso un po' tutti chi ha la possibilità di andare in Sardegna d'estate se voi vedete l'architettura delle città sarde le costruzioni danno tutte le spalle al mare non sono di rimpetto a parte le villette fatte nei centri di villeggiatura ma questo è un altro discorso le costruzioni storiche delle città sarde sul mare sono tutti palazzi che danno le spalle cioè non c'è l'apertura verso il mare perché il mare è sempre stato un grande problema dal mare arrivavano i pirati arrivavano i saccheggiatori eccetera quindi l'idea del mare come pericolo è in tutta Italia non soltanto nel nord attenzione ma certamente conta più nel nord che nel sud che sul mare ci si vive per tutte queste ragioni oggi ci ritroviamo e lascio la parola a Marco ad essere al centro del Mediterraneo senza saper bene che fare senza saper bene cosa fare del Mediterraneo e chiaramente questa spaccatura interna che noi abbiamo ci porta ad avere una grande anche fragilità a livello appunto di politica estera aggiungiamo anche che la spaccatura dentro l'Italia non è solo tra nord e sud ma anche est e ovest questa strana questa ulteriore spaccatura che indebolisce il nostro paese fa fatica essere in un certo senso protagonista anche per dire sul dossier Libia sembra sempre che noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci appoggi per andare per assumere diciamo una posizione precisa insomma l'Italia è un paese insomma di contraddizioni anche il fatto della marina abbiamo è come se avessimo un corpo diciamo robusto buono allenato ma ci manca la testa ecco è bello cioè non sappiamo 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 costruire ma non sappiamo poi utilizzarle ecco e questo chiaramente si collega a dei riflessi nei rapporti con le grandi potenze pensiamo per esempio agli Stati Uniti volevo chiedere proprio questo cioè gli apparati americani diciamo lo stato profondo come li ha chiamati Trump come cosa vedono come considerano l'Italia come come la vedono è solo una possiamo dire una base militare nel Mediterraneo o è anche un qualcos'altro e poi l'Italia comunque un'eventuale diciamo collaborazione sempre con gli Stati Uniti può ritagliarsi negoziare con gli Stati Uniti una sorta di sfera di influenza maggiore nel Mediterraneo cioè una maggiore diciamo possibilità di agire una sorta di possiamo dire di neoatlantismo no in cui in Italia se ne è già parlato ma timidamente ecco volevo chiedere questa cosa qua anche queste sono domande di cui ti ringrazio perché poi sono molto utili per affrontare gli argomenti che contano tu citavi giustamente la faglia est-ovest del nostro paese che è molto dimenticata rispetto a quella evidente tra nord e sud che però è presentissima non so molti di voi immagino se non tutti sarete a Milano o nei dintorni andare da Milano a Trieste in treno è una piccola impresa ci vuole il doppio del tempo necessario ma se vi volete divertire ancora di più provate ad andare da Genova a Trieste Genova a Trieste è un viaggio della speranza Genova a Trieste l'ho fatto una volta adesso vi dico sono due sono quasi sette ore sono sei ore perché poi scendi ne aspetti altri venti minuti alla fine ci metti un sei ore abbondanti ad andare almeno cinque ore e mezza ad andare da da Genova a Trieste o viceversa perché la direttrice neanche a dirlo andare da da Roma alle Marche e le Marche sono storicamente legate a Roma perché in buona parte erano stato pontificio andare da Roma alle Marche è un'impresa cioè in treno è certamente sconsigliabile manca andare da Roma a Rimini in treno insomma poi Pesaro è una siamo sopra la linea esoglossa quindi è c'è già una parlata gallica che loro le chiamano le Marche pulite insomma andare andare da quelle parti è veramente una piccola impresa proprio perché la faglia est-ovest è impensata in Italia come anche fare Napoli e Bari adesso stanno costruendo adesso è un bel po' che vogliono costruire la linea ad alta velocità e sarebbe un piccolo prodigio in Italia che cosa capita nel Mediterraneo con gli Stati Uniti mettiamola così gli Stati Uniti abbiamo detto anche poco fa certamente lo sono sono la principale potenza marittima del pianeta penso fin qui ci siamo un po' tutti che vuol dire nel concreto e come si può inserire l'Italia in questo in questo discorso il concreto vuol dire che viviamo la globalizzazione che è un termine abusato l'abbiamo sentito in tutti i modi se interrogassimo un economista ci direbbe che cos'è e gli chiedessimo che cos'è la globalizzazione stabilirebbe senza grandi difficoltà che la globalizzazione è la possibilità di avere un solo mercato un mercato dunque globale nel quale avviene ciò che fisiologicamente nella loro interpretazione è un'inclinazione per la punta umana antropologica quella di commerciare abbiamo un solo mercato gli umani tendenzialmente amano commerciare fra di loro per interesse poi c'è tutto un corollario culturale ideologico quindi sì perché c'è l'incontro quindi lo scambio anche di culture l'osmosi eccetera eccetera quindi dall'aspetto economicistico finiamo in quello sociologico però più o meno la risposta che avremo è questa in realtà la globalizzazione come vedete in una spiegazione come questa manca di un elemento precedente ma perché esiste un unico mercato globale questo non viene spiegato un economista non lo sa non ha non ha lo strumentario dice esiste perché gli Stati Uniti hanno creato l'unico mercato ma come hanno fatto oh mi è capitato di porre questa domanda ad Augusti economisti e la risposta è boh cioè non non è chiesto per mestiere stabilirlo ma stabilire come gli Stati Uniti hanno creato l'unico mercato globale decisivo altrimenti non capiamo com'è nata e dunque non possiamo neanche comprendere quando può finire la globalizzazione innanzitutto la globalizzazione che viviamo di cui il Mediterraneo è parte integrante perché il Mediterraneo è la cinghia di trasmissione ormai fra oceani fra l'oceano Atlantico e l'Asia Pacifica quindi fra l'oceano Atlantico e l'Indiano e quello Pacifica proprio perché è immerso nella globalizzazione la globalizzazione che viviamo non è inedita non è la prima che l'uomo conosce invece l'impressione che si ha sul piano economico e anche sociologico è che la globalizzazione sia unica e chi l'aveva mai vista certo le nostre generazioni l'hanno mai vista ma non è la prima nella storia dell'uomo è almeno la terza in senso geografico è certamente la seconda e capire da che cosa nasce è fondamentale nasce dal controllo dei mari e degli oceani da parte americana punto come hanno fatto gli americani a creare l'unico mercato globale controllando i mari e gli oceani è impossibile la prima globalizzazione della storia che non lo era nel senso geografico perché non riguardava il globo ma riguardava quello che si chiamava il mondo conosciuto allora è romana ed avviene proprio alla fine delle guerre puniche quando i romani distruggono la potenza cartaginese e creano un solo mercato nel Mediterraneo ed ha i crismi e la struttura e il telaio identico alla globalizzazione attuale che poi sarà replicato estendendolo per la prima volta all'intero globo dagli inglesi nell'Ottocento con quella che è la prima globalizzazione geografica quindi il senso tecnico della storia anche quella si basava sul controllo da parte inglese britannica dei mari degli oceani quando l'Unione Sovietica implode all'inizio degli anni 90 gli americani finalmente controllano tutti i mari e tutti gli oceani li controllavano più o meno anche prima che la marina sovietica fosse eccezionale però aveva capacità di interdizione in alcuni luoghi del pianeta ad esempio del pacifico settentrionale per intenderci a nord del Giappone lì gli americani non potevano imporre la loro volontà la marina russa era presente a Suez era presente nel Mediterraneo e come quindi con l'implosione dell'Unione Sovietica gli americani creano l'unico mercato globale quindi quando finirà la globalizzazione non quando Trump impone dazi e sanzioni che non conta niente perché la globalizzazione non è il libero commercio ma chi l'ha detto questa è una definizione ideologica di tipo economicistico la globalizzazione è il controllo americano dei mari finirà quando finirà il controllo americano dei mari o quando gli Stati Uniti questo è il colorario del loro controllo sugli mari e gli oceani smetteranno di essere il compradore d'ultima istanza questo ci porta un po' lontano dall'argomento di oggi che invece ci serve questa premessa per stabilire il Mediterraneo dove sta nel pianeta perché altro elemento fondamentale della geografia che non viviamo in un vuoto non è che esiste il Mediterraneo punto il Mediterraneo esiste all'interno di un sistema o comunque all'interno di un ecosistema ed oggi da Gibilterra a Suez una parte del tutto c'è una parte di quella catena molto lunga che va dall'Atlantico diceva al Pacifico facendo il giro del pianeta essenzialmente che cosa avviene nel Mediterraneo il Mediterraneo avviene qualcosa sotto i nostri occhi da alcuni anni che è legato soprattutto ad una minore presenza americana nel Mediterraneo cioè gli americani che sono concentrati su mari più increspati diciamo così si occupano oggi meno del Mediterraneo a proposito d'Italia al centro del Mediterraneo di come noi non ce ne rendiamo conto gli altri se ne rendono conto l'Italia al centro del Mediterraneo e sanno che cosa farvi ad esempio la flotta americana che gestisce il Mediterraneo che quindi lo domina in assoluto a sede a Napoli cioè è distanza a Napoli come sapete non è che è distanza non lo so a Marsiglia o nel Pireo gli altri lo sanno noi no gli altri lo sanno però ecco questo ci serve ci fa impressione figurati non interessa niente a nessuno ma comunque la flotta americana sta a Napoli per l'appunto che volta vale la pena ricordarcelo ma da alcuni anni perché presa da altri quadranti ad esempio non porta una porta aerei nel Mediterraneo se non in momenti sporadici questo ha consentito ad altre marine nel Mediterraneo di agire di avere un margine di manovra più ampia non alla nostra figurarsi ma ad altre marine certamente sì anche inferiore alla nostra per collocare la marina italiana nella scala delle altre la marina italiana è in Europa la terza dopo che sono petti identiche dopo quella francese quella inglese quella britannica c'è certamente quella italiana l'Italia ha una porta aerei che è la cavur o il cavur come la chiamano in marina avere una porta aerei non è una cosa banale sono meno di dieci le nazioni che hanno porta aerei al mondo e quelle che ne hanno una nucleare sono soltanto due Stati Uniti e Francia neanche la Cina ce l'ha la De Gaulle è una porta aerei nucleare questo per per collocarci eppure la nostra marina nel Mediterraneo è o utilizzata come guardia costiera perché non abbiamo discusso dell'altro grande terrore che hanno gli italiani provenienti dal mare che sono i migranti per cui la percezione che dal mare arrivino sciagure è legata negli ultimi anni dalla percezione che arrivino pericolosi migranti invasioni eccetera eccetera e questo ha reso la nostra marina incaricata di compiti da guardia costiera di fatto che sono compiti minori per una marina con momenti di grande imbarazzo internazionale navi della marina italiana sequestrate dalla politica a largo dei porti oppure navi della marina italiana anzitutto chiamate soprattutto che ci mancherebbe altro a salvare uomini in mare ma ciò che fa la guardia costiera però che non dovrebbe fare la marina in quanto tale ma dovrebbe certamente fare ci mancherebbe pure la guardia costiera a salvare chiunque si trova in mare anche sia migrante o meno ma non la marina questo però ci dice come più o meno dell'aspetto militare della nostra marina ci interessa poco agli altri invece interessa molto quando tu giochi su un tavolo in cui gli altri hanno chiarezza di cosa fare tu perdi inevitabilmente che cosa è successo in questi anni che la tendenza americana ad occuparsene meno il Mediterraneo intendo ha lasciato spazio agli altri prendiamo il 2011 nel 2011 i nostri amici francesi anzitutto e britannici hanno stabilito che la Libia fosse una stortura intollerabile l'Italia nei decenni aveva recuperato una posizione di assoluta preminenza nella sua ex colonna nella sua ex quarta sponda cioè quella di essere il patron della Libia di avere grandi accordi energetici ma anche strategici con la Libia di Gheddafi e tenerla nella nostra sfera di influenza era una soluzione democratica assolutamente no era una soluzione moralistica tanto meno visto il soggetto ma era ciò che l'Italia ha fatto da sempre dalla fine dell'ottocento una volta prendendo nel 1911 la Libia diventa strappandola all'impero ottomano una colonia italiana e poi persa la colonia siamo tornati in modo informale perché qui entriamo direttamente nella strategia italiana la strategia anzitutto che cos'è così ci teniamo la strategia è l'aspetto fisso di ciò che una collettività deve fare spesso viene usata la termine strategia viene usato a casaccio come sinonimo di tattica quindi c'è un abuso c'è un florileggio di strategie ovunque per cui leggiamo tutti i tipi bisogna inventare una nuova strategia bisogna sviluppare una nuova strategia è un errore strategico qual è la tua strategia come se fossimo a scacchi qual è la tua o a risico la tua strategia eccetera in realtà la strategia non va inventata nessuno ha mai inventato una strategia nella storia mai mai successo però tutti viene richiesto di inventarla lo stratega riconosce la strategia non è che la inventa che è un mestiere un po' diverso la strategia esiste sta lì la strategia che cos'è applichiamola ad un essere umano così capiamo la mia strategia è procurarmi i mezzi per sostentarmi per non morire di fame non è che la devo inventare cioè la devo percepire da essere umano mi rendo conto che se non lavoro non lo so quali altri mezzi illegali qualcuno possa perseguire possibilmente sarebbe meglio soltanto se lavorasse ma forse chiedere troppo ma se non lavoro non posso sostentarmi è strategia è riconoscimento di una natura essenzialmente come fare se l'artigiano l'ereditiere il mantenuto non lo so l'ingegnere l'avvocato eccetera quella è tattica perché i modi per perseguire la strategia sono moltissimi ma la strategia esiste in quanto tale quindi l'Italia che strategia ha basta riconoscerla sta lì al centro del Mediterraneo e il primo dettame della strategia è allontanare come per tutte le collettività la prima linea di difesa da sé cioè evitare di dover rispondere ad un attacco militare dentro casa tutte le collettività ragionano così né più né meno lo stratega fa questo di mestiere anzitutto da un lato pensa ad allontanare la prima linea di difesa dall'altro a controllare le condizioni geografiche che consentono dal paese di essere sovrano esempio il nocciolo della strategia statunitense è controllare il bacino del Mississippi il golfo del Messico nel quale poi il Mississippi finisce perché se non ha il controllo su quello gli stati uniti non sono un paese sovrano il primo elemento della strategia russa è controllare la pianura sarbatica perché se hanno una potenza ostile sulla pianura diciamo di quanto è facile invadere la Russia non sono una potenza sorana per l'Italia qual è l'elemento è duplice arrivare sulla cima delle Alpi cioè trovarsi non ai piedi delle Alpi l'elemento strategico è stare sulla vetta delle Alpi perché sono sempre militari le ragioni strategiche come potete facilmente intuire perché rispondere ad un attacco dai piedi della montagna è impossibile rispondere ad un attacco dalla cima della montagna è tutto ciò che serve della ragione per cui ad esempio l'Italia non può rinunciare all'Alto Adige che peraltro ha spazio geografico italiano ma l'Italia non può rinunciarvi perché l'Alto Adige è sulla punta delle montagne l'Italia non può stare sotto la montagna l'Italia in qualsiasi collettività e questa è una parte della strategia l'altra nell'allontanare la prima linea di difesa ci ha sempre portato inevitabilmente a voler o provare a voler controllare l'altra sponda rispetto alla nostra per fare in modo che ad un attacco militare noi possiamo rispondere altrove come fanno tutti perché l'Inghilterra non molla l'Irlanda del Nord perché attraverso l'Irlanda del Nord controlla il mar d'Irlanda cioè non risponde ad un attacco da Liverpool risponde a Belfast che non è Inghilterra ovviamente è per questo che l'Italia improvvisamente aveva l'Albania anche l'Italia così o perché aveva la Libia ed è la ragione per cui basta vedere a proposito di geografia si vede subito qual è la proiezione e la potenza di una nazione vedendo nel controllo dello spazio ultrageografico cioè che non le pertiene geograficamente o nel caso in cui non ha neppure lo spazio geografico la Corsica oltre ad essere culturalmente italiana ma è anche spazio geografico italiano non è Italia questo ci dà l'idea di quale sia la proiezione italiana rispetto a quella francese cioè quale paese tra i due è dominante non certo noi perché non siamo noi ad avere Marsiglia sono loro ad avere la Corsica diventata poi più o meno francese nel corso ma viceversa noi prendiamo la Francia di rimpetta all'Inghilterra e vediamo che so Jersey quindi un isolotto davanti alla costa francese ma è inglese quindi vediamo anche lì il rapporto qual è storicamente e l'Italia ha questa strategia nel Mediterraneo ed è per questo che ha sempre avuto questo tipo di rapporti con la Libia che piaccia o meno qualsiasi governo italiano che non sa neanche di che cosa stiamo parlando ma non perché non siano capaci il politico fa un altro mestiere non è che non è che Trump o Biden hanno idea vaga anche di un dettame di strategia o di tattica noi andiamo a sopravvalutare in maniera molto ingiusta i politici che ci mettono un po' del loro perché se tu li senti parlare intervengono su tutti i dossier se fanno il ministro della sanità poi fanno il ministro degli esteri poi fanno il direttore dell'ENI eccetera eccetera ci mettono un po' del loro a fare i tutologi ma il politico non è un tecnico e non è un tecnico grazie a Dio aggiungo io per carità che Dio ci scampi dai tecnici in politica perché i tecnici non hanno alcuna sensibilità la politica è tre quarti sensibilità quindi la vedo dura però non sono neanche dei tecnici politici quindi l'Italia come ogni collettività fa ciò che si sente in maniera ancestrale cioè percepisce nel suo aspetto strategico di chi si occupa in questo caso che deve stare sull'altra sponda del Mediterraneo se può che non vuol dire attenzione annettere o dominare territori altrui vuol dire avere un'influenza su questi affinché se non fanno esattamente ciò che diciamo perlomeno non facciano qualcosa contro di noi nel 2011 questa lunga premessa per arrivare al 2011 altrimenti non inquadriamo i nostri amici francesi e bitanici in quello che fanno comprendono l'hanno già compreso da un po' che la Libia era troppo favorevole all'Italia come condizione e che quindi agganciandosi a quelle meravigliose imprese che erano le primavere arabe che immagino ricorderete quasi dieci anni fa siamo quasi al decennale si agganciano dicendo c'è una primavera araba anche in Libia e qualcuno in Italia ci ha anche creduto questo vale come la questione di Malta è come credere che Malta sia anglofona Malta è stata creata anglofona contro di noi la Libia l'abbiamo creata noi cioè come dire i primavere arabe che cosa erano nella loro unica realtà che è stata quella egiziana tutto il resto erano finte ancora prima quella tunisina forse ancora prima di quella egiziana erano semplicemente dei movimenti di piazza contro le oligarchie nazionali più o meno semplificando che però prevedono una comunità prevedono un'opinione pubblica una nazione che Libia non esiste ma neanche lontanamente Libia è un paese tribale che abbiamo creato noi proprio con la mappa noi con la squadra Righello l'Italia coloniale creò la Libia adesso credere è come dire credere che qualcosa abbiamo creato noi sia diventata improvvisamente una nazione che fa la primavera araba ci potevamo credere ma noi siamo riusciti anche in questo basta leggere i giornali dell'epoca ed è buono tutto in realtà i nostri amici francesi che il nord Africa un pochino lo conoscono oserei dire si inventano la primavera araba per rovesciare Gheddafi e creare un regime prossimo venturo che non si è mai materializzato che fosse lontano dall'Italia più vicino al proprio poi tirano dentro anche gli americani perché i francesi abitanici finirono letteralmente le munizioni e ho torto collo all'epoca l'amministrazione Obama intervenne per rovesciare definitivamente Gheddafi oggi di Libia rimangono i coriandoli Libia non tornerà mai più ad essere un paese unitario contro ogni nostro interesse no addirittura all'epoca dovemmo partecipare alla distruzione di Gheddafi per evitare che ci distruggessero le installazioni dell'ENI ci fu intimato di partecipare perché altrimenti però l'Europa senza apostrofo spesso e volentieri ci regala anche di queste emozioni e all'epoca anche la Gran Bretagna era ancora dentro l'Unione Europea questo per dire che cosa che quando non si ha una coscienza mediterranea credo che si sia intuito vagamente nel raccontare come cosa ci è capitato in Libia che riguarda la nostra strategia è difficile intervenire poi dobbiamo essere altrettanto onesti lì era difficile intervenire in assoluto perché avevamo davanti una sorta di tempesta perfetta due nazioni insieme erano Bretagna e Francia più potenti di noi entrambe figurarsi in forma accumulata con dietro gli americani con dietro tutto il battaggio più o meno ridicolo delle primavere arame ma comunque è stata in passa ad una repubblica come la nostra molto ingenua a riguardo perché è stata molto anziana di età quindi che crede realmente che la storia sia finita e quindi ciò a cui assiste non è mai competizione fra nazioni ma è sempre una sorta di momento di intervallo verso la pace dei sensi è difficile in un contesto come questo difendersi all'epoca c'era il governo Berlusconi ma sarebbe stato veramente molto complicato per chiunque difendersi al punto da ritrovarci nell'umiliante posizione di dover bombardare noi il territorio libico per evitare che ci distruggessero le installazioni dell'Eni eravamo arrivati a questo punto non è neanche la prima volta se noi prendiamo le guerre di Jugoslave e siamo sempre in ambito mediterraneo forse qualcuno se lo dimentica ma l'Adriatico che è il mare morto italiano di cui nessuno si interessa ancor meno del Tirreno e poi parleremo di quanto i cinesi concludo questa parte perché i cinesi poi stanno riportando il Mediterraneo e i turchi stanno riportando il Mediterraneo alla nostra attenzione ma durante le guerre di Jugoslavia quindi siamo negli anni 90 all'inizio degli anni 90 l'Italia tutti i governi italiani alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 hanno stabilito che la Jugoslavia dovesse rimanere unita riprendendo evidentemente un celebre romanzo di Stephen King Misery non deve morire l'Italia aveva stabilito che la Jugoslavia non doveva morire ed era un discorso più o meno logico perché anche qui siamo in ambito strategico se io devo scegliere possibilmente i miei vicini non devono esistere nel caos a meno che non sono miei nemici assoluti allora se stanno nel caos è meglio ma se non sono miei nemici assoluti e vivono nel caos per me è un problema perché poi vuol dire doverne gestire le spoglie profughi lo intendete da voi la strategia la geopolitica è un grande vantaggio che è pura vigliaccheria cioè l'aspetto morale non c'è questo ci esenta da questioni che non ci farebbero dormire la notte ma inevitabilmente sul piano strategico avere un paese nel caos vuol dire poi accollarsi nei drammi l'Italia aveva stabilito in maniera corretta all'epoca fu Demichelis che parlando col primo ministro sloveno che rivendicava la possibilità di un'indipendenza per il suo paese anche qui dobbiamo essere molto onesti paesi jugoslavi le nazioni jugoslavi tra di loro non c'entravano quasi niente l'una con l'altra quindi le rivendicazioni di indipendenza erano certamente legittime ma sul piano strumentale il nostro Demichelis spiegò al primo ministro sloveno che se sognava l'indipendenza visto che in Europa non c'era posto per altre nazioni doveva scegliersi un altro continente quindi l'idea italiana sui jugoslavi era questa poi ci siamo ritrovati vi ricorderete da lì a qualche anno durante la guerra del Kosovo a distruggere fabbriche della Fiat in Serbia noi prima che lo facessero gli altri cioè questo c'è l'Italia della nostra non proiezione mediterranea tutti gli argomenti di cui ovviamente all'opera pubblica non interessa niente forse niente è troppo anche meno di niente è come la questione dei recovery fund anzi found come si dice in Italia perché viene attente con un participo passato perché l'abbiamo trovato per strada nessuno si chiede da dove venga questo perché gli si interessa ce lo dà l'Europa come se l'Europa esistesse esistono le nazioni europee esistono le collettività e noi dovremmo rendercene conto anzitutto nel Mediterraneo perché nel frattempo per citare un altro film qualcosa è cambiato anzitutto la Cina ha messo il Mediterraneo nel suo mirino è qui che fa passare la rotta principale marittima delle nuove vie della seta oggi lo sappiate tutti cosa sono le nuove vie della seta le vie della seta immaginate la cosiddetta Belt Road in Escheriff come si chiama con un anglicismo inventato dai cinesi BRI in acronimo parte dalla costa cinese ed arriva in Germania questo dovrebbe collegare la Cina al continente più importante del mondo che non è quello asiatico è quello europeo i cinesi lo sanno infatti quando pensano di scardinare l'egemonia americana a sto programma pensano di arrivare in Europa e di farlo con due direttrici una terrestre con il più basso programma cioè immaginate costruire infrastrutture non lo so da Shanghai più o meno fino a Dortmund o a Dusseldorf in Germania passando per l'Asia centrale innanzitutto per il Xinjiang quindi per la parte turcica della Repubblica Popolare poi tutta l'Asia centrale arrivando fino in Germania in bocca al lupo anche qui poi c'è la direttrice marittima che invece fa passare noi via della seta dalla costa cinese quindi dal mar cinese meridionale attraverso l'oceano indiano Suez ed eccoci nel Mediterraneo avrete notato che negli ultimi anni ad esempio i cinesi si sono comprati il porto del Pireo proprio comprato letteralmente cioè gestito da una società cinese e poi hanno messo gli occhi bontalloro sulla nostra penisola perché loro che l'Italia sta sul mare se ne sono accorti fortunatamente prima avevano pensato di prendersi il porto di Gioia Tauro perché serve a che cosa? loro arrivano nel porto le merci cinesi e poi attraverso delle infrastrutture che si offrono di costruire anche qui in bocca al lupo le conducono verso quella vera la mitte l'Europa o mitte l'Europa che si voglia quindi andando oltre la Lombardia nell'Europa che a loro interessa veramente poi per ragioni diciamo Gioia Tauro non è stata percorribile diciamo così sono nati improvvisi sindacati che non volevano un po' fittizi come sindacati che non volevano l'ingresso dei cinesi poi hanno messo gli occhi su Taranto anche lì le cose sono andate molto male anche se sembra esempio che Taranto sia finita nel milione dei turchi a differenza dei cinesi e poi hanno deciso di guardare a Trieste quindi risalendo la penisola Trieste che sul piano infrastrutturale ne parlavamo anche poco fa tutto è tranne che italiana perché Trieste ancora collegata discretamente da una ferrovia asburgica che la conduce direttamente verso nord che ancora c'è ed è quella che interessa i cinesi ma che invece la conduce con grande difficoltà sul Tirreno Tirreno dove peraltro i cinesi ci sono già proprio in Liguria sono già presenti in alcuni porti della Liguria voi vedete che davanti a questo interessamento cinese ne è arrivato un altro che è quello americano gli americani sono tornati ad avere un interesse maggiore nei confronti mediterranei della nostra penisola ad esempio impedendo di fatto alla Cina di prendersi il porto di Trieste le trattative che ci sono state in questi mesi hanno condotto come ben saprete all'acquisto delle infrastrutture da parte di un consorzio tedesco con il cittadamburgo anche se gli americani temono che dentro di questo possa entrare dalla finestra nuovamente la Cina per le intrinsechezze che esistono tra Repubblica Popolare e Germania e vale la pena forse dimenticarlo ma invece serve ricordarlo che nel nord est italiano c'è il grosso dei militari americani non a caso devo dire impetto a Trieste quindi non proprio una posizione sostenibile dagli Stati Uniti che si sono fortemente opposti all'ingresso dei cinesi a Trieste nella nostra più o meno inconsapevolezza mentre le grandi potenze si disputano nel Mediterraneo sulle nostre spalle e da ultimo la Turchia a cui facevo riferimento e anche la Russia perché noi abbiamo due nuovi vicini ma due nuovi vicini letterali non come metafora che sono turchi e russi i turchi sono a Tripoli tra l'altro formalmente siamo a noi perché noi siamo formalmente alleati della Turchia a Tripoli non so se vi ricordate ancora del leggendario governo di Al-Serraj cosiddetto governo sostenuto dalla comunità internazionale quando sentite due espressioni la prima è comunità internazionale la seconda è governance c'è sempre qualche cosa di drammatico dietro c'è sempre è certo quando sentite comunità internazionale siamo in piena fiction anzi fiction come si dice in Italia e quando sentite governance vuol dire che chi vi sta parlando non sa di che cosa sta parlando quindi quando uno non sa di che parla dice dobbiamo dobbiamo rivedere la governance ma che significa non si sa però è bello e va utilizzato e la comunità internazionale sostiene il governo di Al-Serraj se non forse che il governo di Al-Serraj non può nemmeno uscire di casa quindi va bene sostenerlo se avete di queste di queste voglie ma il governo di Al-Serraj vuol dire che è turco questo vuol dire nel concreto cioè che è sostenuto non dalla comunità internazionale beata la comunità internazionale ovunque sia ma dalla Turchia che invece esiste veramente noi ci siamo ritrovati sostenendo la comunità internazionale con i turchi a Tripoli e Tripoli per chi ci ascolta immagino sia nota a tutti è in assoluto la parte della Libia che a noi interessa di più sì anche la Cirenaica dove ci sono certamente i giacimenti eccetera eccetera a Tripoli è la parte italiana storicamente della Libia ed oggi i turchi che dominano la Tripolitania addestrano la guardia costiera libica che si muove su mezzi regalati dall'Italia questa è la nostra condizione del Mediterraneo interessa a qualcuno? probabilmente no quindi che poi è il grande vantaggio della irrilevanza che si può dire con grande tranquillità intanto non interessa niente a nessuno quindi non è neanche considerata maleducazione parlarne perché non va poi a toccare nessuna sensibilità la nostra proiezione drammatica al centro del Mediterraneo e da ultimi i russi perché i russi non sono in Tripolitania ma sono in Cirenaica e sono sostenitori di sedicento ormai in disgrazia generale al Haftar insieme ai francesi a proposito asterisco i francesi nuovamente dalla parte opposta rispetto alla nostra noi in Tripolitania e loro in Cirenaica anche se noi come loro facciamo il doppio il triplo gioco italiani in Libia fanno il triplo il quadruplo gioco avete sentito anche immagino l'espressione i sindaci libici non so se in questi anni vi è arrivata questa espressione quando c'era soprattutto Minniti il ministro di Italia si diceva l'Italia si è accordata con i sindaci libici che sembra una carica elettiva dice guarda però esattamente come noi qualcuno avrà pensato dagli anni 90 come abbiamo fatto noi anche i libici leggono i sindaci i sindaci libici sono i capi tribù che non sono eletti da nessuno ma li chiamiamo sindaci che è molto divertente bisognerebbe indagare perché dell'addizione ma anche questo fa parte del folklore i russi attraverso i sindaci libici della Cirenaica si trovano lì assieme agli egiziani quindi noi abbiamo la nostra quarta sponda come abbiamo detto sul piano strategico per noi è fondamentale che è controllata a Tripoli dai Turchi e dai Catarini cioè vuol dire che tutto ciò che fa la Turchia è pagato dai Catarini questa immagine lo sappiate chi è un grande appassionato di calcio avrà notato che il Qatar è molto attivo nel calcio dal Manchester City passando per la Roma che ha come sponsor la Qatar Airways eccetera il Qatar finanzia tutte le operazioni della Turchia perché i turchi non hanno soldi di per sé per avere quel tipo di proiezione che è finanziata dal Qatar oggi non ci interessa stabilire perché ma tanto ci può servire dall'altro lato ci sono invece quindi Tripolitani i turchi e i catarini dall'altro lato russi francesi ed egiziani noi noi in mezzo essenzialmente senza grande margine di manovra non so se ho reso l'idea di come vanno le cose nel Mediterraneo aggiungiamoci l'ultima postilla che il Parlamento Albanese un mese e mezzo fa quindi l'altra nostra ex colonia di rimpetto rispetto al nostro paese a cui noi guardiamo con massimo disprezzo cioè il paese che sogna di essere italiano ma che essenzialmente è una specie di composizione drammatica beh da qualche tempo non sogna più granché di essere italiano vale la pena ricordarlo non solo perché è storicamente un paese turcofono o comunque che ha fatto parte insomma sono musulmani gli albanesi sebbene dei musulmani poatei perché sono stati costretti per capire da tutti i popoli nella storia intendiamoci non sono gli unici a diventarlo dai turchi dagli ottomani e oggi stanno recuperando quella quel legame culturale non solo attraverso le serie televisive eccetera eccetera ma qualche settimana fa dicevo il Parlamento di Tirana ha votato l'incarico alle forze armate turche di ammodernare le forze armate albanesi quella che noi consideriamo casa nostra essenzialmente se noi interroghiamo gli italiani oltre a dire speriamo che che l'Albania cessi di esistere più o meno altra cosa che ci sono gli italiani è roba nostra insomma non esattamente ed è parte integrante della nostra strategia cioè controllare l'altra sponda dell'Adriatico anche lì i turchi hanno nettamente più voce in capitolo di noi eppure noi siamo al centro del Mediterraneo certo quindi diciamo andiamo verso la conclusione di questa diciamo prima parte con un'ultima domanda quindi se diciamo se le grandi potenze vengono qua si avvicinano sempre di più l'Italia noi perché non invertire in un certo senso il discorso cercare che l'Italia arrivi sempre di più per esempio verso l'Ase verso il Mar Cinese che è uno diciamo dei mari più importanti di questo questo periodo storico in mezzo però noi in questa diciamo in questa prospettiva noi forse abbiamo un vantaggio rispetto agli altri che potrebbe essere il Vaticano in un certo senso una proposta ecco una forse fantasia però il Vaticano i rapporti tra Vaticano e Italia cioè il Vaticano comunque è una è uno stato una potenza che ha una visione mondiale veramente poi in un certo senso aiutare l'Italia in una sua diciamo proiezione per esempio si parla molto della questione religiosa del fatto della settarizzazione in Africa in Medio Oriente perché in Italia non si può in un certo senso far promotrice della sicurezza delle minoranze per dire cattoliche cristiane che magari possono diventare anche una parte non solo diciamo per i diritti umani ma una parte della sfera di influenza italiana in Medio Oriente in Africa ma soprattutto in Asia ecco voglio chiedere questo è fattibile magari una cosa di questo tipo che permetta all'Italia di avere un mito motore in qualche modo magari a sfondo religioso ma che permetta magari diciamo di competere o comunque di dialogare più fortemente con potenze come la Cina la Russia gli Stati Uniti portierane grazie grazie Marco ne dubito fortemente che rapporto abbiamo con il Vaticano l'Italia ha da sempre un rapporto molto particolare l'Italia Unita intendo un rapporto molto particolare che non vale la pena nemmeno indagare per quanto è noto eccetera il discorso è che l'Italia ha in questa fase un rapporto ancora più complesso con il Vaticano perché da sempre è una grande risorsa dobbiamo immaginare l'Italia ha una mediopotenza che ha nella sua capitale una superpotenza globale esatto che è l'unica superpotenza globale di fatto insieme agli Stati Uniti se volete metterci anche la Cina ma la Cina ancora non lo è il Vaticano e gli Stati Uniti certamente sì questo inevitabilmente è un vantaggio ma ci influenza anche cioè tende ad avere anche un effetto per forza negativo perché ha una sua agenda il Vaticano non sempre coincide con quelle italiane inevitabilmente specialmente in questa fase se noi immaginiamo l'attuale momento è tutto più complesso perché il Vaticano ricordiamoci siamo in un ambito veramente millenario quindi tra impero e papato lo scolto è sempre drammatico cioè il papato è sempre contro l'impero del momento inevitabilmente il papato è contro gli Stati Uniti è il male maggiore l'impero per il papato a meno che l'impero in questione che è comunque l'impero occidentale quello statunitense non abbia nello stessa epoca non ci sia nella stessa epoca un altro nemico del Vaticano che è impero ma neppure occidentale allora lì gli Stati Uniti diventano male in minore ed è quello che è successo durante la parte finale della guerra fredda nonostante la spolitica vaticana all'epoca soprattutto negli anni di Voitiva il Vaticano ovviamente abbracciò la causa statunitense contro quella sovietica non vale nemmeno la pena di ricordarlo un atteggiamento filo statunitense un po' peculiare cioè per interessi propri del Vaticano che è proseguito anche con Ratzinger ed è finito però nel momento attuale nel momento attuale quello di Papa Francesco rappresenta una chiesa un Stato Vaticano che ha una evidente strategia post-occidentale universalistica in senso stretto e che quindi non è vicina agli Stati Uniti di per sé e dunque più lontana anche da noi prendiamo il rapporto fra Vaticano e Cina di questi anni la chiesa di Papa Francesco ha la Cina come massimo obiettivo cioè quella di regolarizzare anzitutto il ruolo dei cattolici all'interno della Cina che non sono questo prodigioso bacino che comunque è qualche milione sappiamo bene che un paio di anni fa è stata raggiunta un'intesa per le investiture si sarebbe detto nel medioevo ma di questo si tratta tra la Repubblica Popolare e il Vaticano che peraltro è stata rinnovata tra lo strepitare degli americani proprio qualche settimana fa e questo ha avuto un effetto evidente anche sulla nostra politica estera questa apertura netta molto gesuitica nei confronti della Cina ha avuto un effetto netto sul nostro paese che anzitutto è economicistico che vuol dire questo economicistico crede come il nostro che sia l'economia a decidere i destini del pianeta e quindi l'idea che la Cina sia il futuro perché diventerà la prima potenza del mondo per PIL è per noi proprio scontato ma forse già lo è non è nemmeno futuro è presente che la Cina sia un paese che se la passa molto male sul piano strategico e quindi avrà enormi difficoltà a diventare la prima potenza del pianeta a noi è totalmente incomprensibile questo dunque associato all'apertura vaticana nei confronti della Cina ci ha condotto a firmare il memorandum sulle nuove vie della seta siamo nel marzo del 2019 l'abbiamo fatto con grande leggerezza da un lato convinti che l'economia sia la ragione di tutto e quindi sia anche neutra in fondo quando diciamo che siamo mitte l'europei vogliamo dire che quella è la parte il motore principale economico del continente certamente lo è noi dobbiamo rimanere agganciati a quello perché conta l'economia così se abbiamo stabilito che la Cina sia il motore economico del pianeta e lo è dobbiamo rimanere agganciati alla Cina il problema è tutto il resto siamo stati influenzati anche dal Vaticano abbiamo fatto arrabbiare molto gli americani per questo ma soprattutto è una scommessa sbagliata che non è poco insomma le scommesse si possono fare quando sono sbagliate può diventare pericoloso perché la Cina ha grandi problemi strutturali e soprattutto la Cina non è un colpatore d'ultima istanza l'Italia è un paese manifatturiero per dire l'ovvietà delle ovvietà produce ed esporta produce più di quanto consuma ed è un paese di capacità eccezionali la manifattura italiana è senza dubbio se non la manifattura è più eccezionale del pianeta tra le prime tre come capacità poi non è in grado di crescere è tipicamente italiana in questa rimane sempre medio piccola perché le manca l'apporto dirigistico dello Stato che invece la Francia a me capita spesso di essere invitata a fare consulenze nelle grandi aziende italiane soprattutto del nord non hanno alcuna cognizione geopolitica che è normale in tutte le grandi aziende che non siano proprio multinazionali del livello di Microsoft o lo so le grandi multinazionali tedesche o Apple quelle americane e fate voi che quindi possono permettersi dipartimenti di ogni tipo una media azienda non può avere anche l'esperto di geopolitica dentro che costa peraltro troppo non sta mai zitto come io dimostro in questo nostro incontro ma quando non c'è questa assenza viene supplita da chi? dallo Stato che interviene e dice alle sue aziende guarda che questo si può fare questo non si può fare guarda che nel tale territorio puoi andare ti sostengo io altrove non puoi andare perché non solo non ti sostengo ti pulisco che è quello che fa la Francia ad esempio quello che fa lo Stato francese nei confronti dei suoi campioni e noi ne sappiamo qualcosa perché i campioni francesi vengono in Italia e fanno il bello e il cattivo tempo nei confronti delle nostre aziende che si trovano sole al cospetto di aziende che hanno capacità geopolitica che sanno che l'economia è inferiore alla strategia cosa che nelle nostre scuole le nostre università non viene neanche insegnata ma nemmeno lontanamente quindi l'Italia con la Cina ha avuto questo effetto credere soltanto nell'economia e nell'apertura del Vaticano senza ragionare su quali potessero essere le conseguenze negative è capitata ad esempio anche in Libia poche settimane dopo tornando al Mediterraneo l'Italia firma il memorandum per le nuove vie della seta gli americani si divertono a segnalarci in Libia che loro avrebbero lasciato campo libero all'avanzata di Haftar dalla Cirenaica verso la Tripolitania cioè contro di noi si divertivano a farlo apposta per segnalarci il loro dispiacere quindi per rispondere alla tua domanda quanto il Vaticano può essere una risorsa il Vaticano può essere una risorsa perché è una risorsa di soft power per il nostro paese perché a volte si scambia normalmente Roma anche per il Vaticano quindi l'Italia per la sede lo è c'è anche il debatto della Chiesa Cattolica ed Universale che però ha una sua agenda e quando come in questo caso ha un papato che è molto meno occidentale di quanto capitava qualche tempo fa sebbene Bergoglio abbia origini piemontesi sia un gesuita eccetera ma vede il mondo anche in forma legittima lontano dall'Occidente anche per crescita della Chiesa che ha i suoi bacini demografici più fertili in Asia in Africa per noi diventa un problema se non potremmo sfruttarlo sì certamente non come stiamo facendo noi non possiamo seguire il Vaticano nella sua apertura alla Cina perché il Vaticano ha una corazza che noi non abbiamo a noi gli americani possono farci molto male al Vaticano molto meno possono fare male anche al Vaticano perché poi lo scolto tra papato e impero è sempre molto aspro nella storia insomma nel 1527 qualcosa Roma ha lasciato e ad esempio la penetrazione delle chiese statunitensi protestanti ed evangeliche nell'America Latina sta facendo molto male alla chiesa la chiesa di Roma perché sta sottraendo milioni e milioni di latinoamericani alla fedeltà di Roma per portarli invece vicini agli Stati Uniti e per questo poi vedete l'elezione di Bolsonaro in Brasile che ha come bacino elettorale le chiese statunitensi impiantate in Brasile ed infatti avete notato Bolsonaro è un fedele alleato degli Stati Uniti non a caso ecco anche quindi il Vaticano può subire dei contraccolpi dagli Stati Uniti ma che non sono paragonabili ai nostri che invece possono essere nettamente maggiori su ogni punto di vista vale anche la pena ricordare che i militari americani in Italia non stanno in vacanza a volte noi abbiamo l'impressione di sì anche qualche militare americano a volte crede di esservi in vacanza ma formalmente non sono in vacanza bene grazie grazie dottor Fabri veramente diciamo l'esposizione è stata oltre che particolarmente densa direi che ha dato come punto di pregio l'aver toccato anche nell'affrontare una tematica ben precisa con un approccio ben preciso perché c'è molto tecnico così come esattamente diciamo un politico poi dovrebbe fare e ha richiamato questa cosa un politico deve avere diciamo la passione per lo più e si intende il resto deve essere tecnico ora per passione si intende che il politico debba capire e conoscere tutta una serie di processi di dinamiche che naturalmente riescono ad altri modi di pensare sicuramente per l'economista sicuramente noi da qualche anno abbiamo scelto di interessarsi un po' di più o meglio di inserire con una certa frequenza argomento geografico proprio perché richiamo quello che ha detto all'inizio e raramente ci interroghiamo su quanto la geografia le caratteristiche del territorio influenzino radicalmente il nostro modo di pensare e questo è vero anche per le comunità devo dire una volta ho chiesto una persona un amico che ho appena conosciuto un amico di Cento provincia credo di Ferraria noto per il carnevale provincia di Ferraria ero lì per il carnevale perché c'è una parte della famiglia che è proprio originale da quelle parti era la versione estiva del carnevale loro hanno rapporti con Rio de Janeiro proprio grazie al carnevale e gli ho chiesto così non essendo lui di città come io sono pugliese sono salentino ma vivo a Milano quindi è una origine diversa essendo lui oriundo di là come ci si sente essere cittadino di un posto di un territorio che può andare in tutte le direzioni quindi che ha rapporti a 360 gradi con tutta la pianura le caratteristiche del territorio coinvolgono il nostro modo di pensare e ho apprezzato anche molti riferimenti storici io sono appassionato di storia molte cose nella storia hanno un aggancio e permettono di capire il presente gli strateghi noi usiamo giustamente questo termine non ricordando dove è nato è nato d'Atene non casualmente ha un significato che lei effettivamente ha spiegato non erano gli ideatori della tattica militare ma erano i capi che sulla base dell'osservazione del momento decidevano che da farsi certo gli osservavano quello che c'era e inventavano qualcosa la teoria della doppia sponda doppia sponda è quello che ha permesso alla flotta romana di Ottaviano di battere Marco Antone affrontando prima un versante e poi l'altro se non avesse fatto in quel modo lì levandogli la seconda sponda non avrebbero quindi tutti questi elementi sono naturalmente elementi che possono interessare e fare un adeguato crossover per questo termine moderno rispetto alle varie discipline anche partendo da una tematica ben precisa io ho affettato moltissimo il suo focus anche le caratteristiche insomma del focus che ha fatto sulla posizione strategica italiana sulla posizione italiana quello che è credo che ci dia modo di capire molti dei processi in atto perché credo che la Libia sia un caso proprio paradigmatico giustamente lei ha sottolineato che la nostra opinione pubblica è piuttosto disinteressata sicuramente descrive bene il sentimento cioè quell'aspirazione finale verso la pace naturalmente è quello che ci condiziona che però poi rischia di non farci comprendere a dovere delle dinamiche che poi ci troviamo ad affrontare dai migranti al sostegno ai presunti movimenti di liberazione civile ad altre cose che noi non dominiamo non capiamo proprio perché non riusciamo a entrare nelle tematiche tenendo presente questo aspetto pruento brutto sicuramente non corrisponde neanche noi come circolo siamo però non c'è un di meno va conosciuto va conosciuto per capire come esattamente possiamo comportarci e quindi valutare anche le scelte della politica come vengono per mi taccio ma chiedo scusa anche ai partecipanti per questo intervento diciamo a chiosa ma raramente mi capita di smettere di prendere appunto molto gentile fa molto piacere grazie ho provato ascoltare perché mi sembrava nettamente più importante poi vado a riprenderlo dopo quindi a questo punto lascio però decisamente la parola agli interventi penso che possiamo andare un attimo di controllo alla chat sì Stefano Gurpanti ha alzato a che ora è previsto mezzogiorno venti mezzogiorno e mezza che ora possiamo chiudere se lei è d'accordo sì 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 ne abbiamo già due quindi parto rifare nel frattempo a Stefano Gurpanti poi lì a bova quando arriva il terzo lo farà prego buongiorno buongiorno sono Stefano Gurpanti e volevo anch'io ringraziare il dottor Fabri per questo grande bagno di realtà che ci ha fatto fare una realtà con la quale spesso noi dimentichiamo e non vogliamo fare i conti spiegandoci cosa sta realmente accadendo in Libia cosa sta accadendo in Albania e tutte le cose che ha esposto vorrei soffermarmi in particolare su un concetto lei ha detto a un passant che esistono le nazioni europee non l'Europa ecco questo è un concetto a me molto caro nel senso che pur auspicando un'Europa federale passo a volte per euroscettico perché appunto evidenzio questo dato di fatto che lei ha ha esposto cioè che se è vero che le nazioni europee sono nostri alleati penso alla Francia penso alla Germania è al tempo stesso vero che proprio Francia e Germania sono i nostri maggiori concorrenti dal punto di vista commerciale non è la Russia non è la Cina non è l'America ma sono quei paesi con i quali noi dobbiamo costruire l'Europa e allora come uscire da questo dilemma cosa ne pensa lei dell'idea secondo cui se noi non riusciamo in qualche modo a scomporre la logica degli stati nazioni favorendo aggregazioni tra zone di diversi paesi europei che hanno interessi comuni non riusciremo mai a fare l'Europa faccio un esempio concreto se l'Unione Europea avesse sostenuto il referendum sull'indipendenza scozzese e oggi avessimo una Scozia autonoma da Regno Unito sarebbe stato molto più difficile arrivare alla Brexit e forse non avremmo avuto la Brexit invece la logica è sempre stata quella di privilegiare la logica degli stati nazioni e che sono i peggiori nemici dell'Europa a mio avviso gradirei avere la sua opinione su questo punto grazie andiamo con le altre due andiamo con le altre due poi lo scorsato se può dare poi una risposta o meglio le risposte alla fine della terza domanda noi cerchiamo di fare in questo modo anche per ottimizzare i tempi prego Idia intanto una saluta a tutti anticipo anche il ringraziamento per Dario Fabri che ascolto sempre con piacere e che spesso ho avuto anche la possibilità di leggere mi cambio un pochettino quello che volevo dire per avvicinarmi insomma alla domanda di Stefano quindi tornando un po' a vedere il nostro rapporto con il Regno Unito e con la Francia che ci interessa che come diceva anche Dario Fabri ci ha interessato fino all'inizio della nostra storia unitaria in quanto parte della formazione dell'Unità e diciamo il rapporto con la Francia che è sempre stato un rapporto difficile anche con il Regno Piemontese ci ricordiamo che come devo dire di Savoia erano sempre preoccupati di non finire dentro la monarchia dentro la monarchia francese e sotto certi aspetti questa preoccupazione dovrebbe un po' continuare perché sotto il profilo economico sotto il profilo fattuale l'Italia rischia di diventare una per esagerare una colonia una colonia francese no pensiamo alla situazione dell'impresa pensiamo anche alla recente polemica di protezione di media sull'emendamento che c'è stato in Parlamento pensiamo anche forse non ci riflettiamo che in Europa visto che non c'è più il Regno Unito la Francia è una potenza atomica questo anche questo ha il suo come devo dire ha il suo peso sulla sull'influenza no ma anche sull'influenza in casa nostra e quello che vorrei chiedere ma l'Italia potrebbe a livello teorico fronteggiare sia la competizione della Francia sia forse anche giocare di sponda con il Regno Unito visto e considerato approfittando del fatto che il Regno Unito dal gennaio prossimo non sarà più dentro l'Unione Europea considerato anche il fatto che l'Unione Europea è una creazione soprattutto francese ecco prego Vincenzo buongiorno mi chiamo Vincenzo e lavoro all'Università Cattolica di Milano dove anche insegno allora ho preso tanti appunti volevo ringraziarla e allora in merito al discorso della geopolitica uno degli elementi fondamentali è il modello culturale allora la mia domanda è diciamo noi contiamo poco in Europa e nel Mediterraneo perché dal settecento con l'illuminismo il modello culturale è diventato un modello europeo sostanzialmente quindi noi abbiamo iniziato ad importare illuminismo romanticismo cioè la cultura dall'Europa e ci siamo dovuti adattare mentre con la civiltà romana e con il rinascimento invece l'Italia aveva espresso una cultura diciamo propria potremmo dire proprietaria ecco quindi ecco la mia domanda è appunto se in qualche modo il fatto che contiamo di meno ha una profumatrice culturale cioè io lo vedo come l'elemento principale rispetto agli altri nell'ambito nel discorso della geopolitica poi la seconda domanda è la seguente allora lei ha detto giustamente che l'economia è una scienza minore rispetto alla strategia ecco volevo fare una domanda che significato ha per esempio questo dato che di qualche mese fa cioè del prezzo del petrolio negativo cioè che significato strategico ha il fatto di dire che sostanzialmente il petrolio gli arabi ce lo devono regalare ecco che significato strategico ha e di conseguenza non si parla più di penisola arabica lei ha citato prima il Qatar però ovviamente questi paesi hanno ancora la risorsa principale che è il petrolio e hanno tanti soldi quindi non si parla più di Arabia non si parla si sente sempre parlare del Qatar anche mi ricordo con la vicenda di Hillary Clinton e di cose strane che sarebbero avvenute fra il Clinton e il Qatar ecco quindi questa diciamo la seconda direi anche la terza domanda poi dato che lei all'inizio ha fatto degli apprezzamenti sul nostro corso dato che io mi occuperò di dell'incontro con 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 dottor Bernabè quindi se lei fosse interessato noi le mandiamo l'invito se volesse partecipare molto volentieri ecco salve prego dottor Fabio tanto grazie colgo l'occasione per chiedere a Vincenzo mi permetto che cosa insegna sono curioso perché la domanda è molto affascinante sull'aspetto di sull'impianto originario o meno della cultura nazionale allora tutt'altro perché insegno economia del cinema e della televisione però quindi mi occupo come ricerca di internet tv quindi mi occupo di big data o big data in inglese relativamente a questo settore diciamo che alla cattolica sono a capo del progetto infinity del gruppo mediaset quello che diciamo tendenzialmente dovrebbe fare in prospettiva concorrenza Netflix ma con le vicende vivendi così poi non so cosa succederà francamente però io me ne occupo solamente in cattolica non entro in giochi strategici così mi occupo solamente degli aspetti tecnici tanto grazie a tutti quanti anche a lei innanzitutto anche per questa precitazione ma tutti per le domande che mi sono appuntato così da non dimenticarmene nessuna anche se sono soltanto tre potrei potevo farcela anche senza appunti ma meglio non fidarsi fino in fondo partirò in senso cronologico per pura gentilezza dalla prima che mi è stata posta quella riguardante un tema annoso per eccellenza cioè la costruzione dell'Europa il ruolo delle nazioni eccetera delle patrie come non chiamarle i francesi eccetera eccetera il punto ci vorrebbero molte ore ma per semplificare molto molto ore per esprimere la mia opinione ci mancherebbe altro ognuno può avere la propria ma per semplificare quindi chiedo scusa perché inevitabilmente ci sarà una riduzione di complessità come in ogni semplificazione quello che sto per dire ma abbiamo l'impressione e questo è molto politologico che la nazione sia una questione arbitraria cioè che se noi ci mettiamo a tavolino e decidiamo di costruire una nazione chi ce lo preclude chi ce lo vieta possiamo farlo ci sediamo io sono d'accordo con te tu sei d'accordo come abbiamo scoperto guardandoci negli occhi di amarci profondamente di non poter fare a meno gli uni degli altri e quindi tanto vale vivere insieme e farlo il meglio possibile il punto è che le nazioni perché poi quando si parla di Stati Uniti d'Europa che così scompriamo il campo non vedremo mai noi non vedranno mai i nostri figli neanche i nostri nipoti probabilmente non vedrà mai nessuno ma di certo da qui ai prossimi cento anni non avverrà ma quando si discute di una creazione della nazione europea perché poi questo significa lo si fa prendendo per arbitrare tale creazione se noi vediamo la storia delle nazioni la storia delle nazioni avviene sempre in forma violenta cioè non è mai successo ma proprio mai neanche una volta nella storia che nascesse una nazione a tavolino noi invece abbiamo stabilito ogni volta che discutiamo di Europa di realizzare ciò che l'essere umano non ha mai realizzato sarebbe bellissimo non lo so questo decidetelo voi certo se le cose avvenissero senza violenza sarebbe bellissimo di cui siamo tutti d'accordo sarebbe bellissimo che vi fosse una nazione europea non lo so non so neanche questo io non sono un grande entusiasta devo dire preferisco i particolarismi ma per carità poi ognuno ha i suoi gusti ma la nazione europea in quanto tale non può nascere se non almeno l'uomo non conosce ad oggi quindi ci smentiranno gli europei ne dubito penso che gli europei sono in assoluto le collettività più violente che l'uomo conosca che solo sono stati adesso sono troppo anziani grazie a Dio per esserlo non sono indipendenti nessuna nazione europea lo è fanno tutte parte della sfera di influenza americana ma comunque vorrebbe dire immaginare una nazione europea riportare la guerra messo che se ne sia mai andata perché poi i Balcani sono Europa e l'Ucraina è Europa anche se dobbiamo sentire le sciocchezze per cui sono 70 anni che non c'è guerra in Europa andatelo a chiedere ai serbi ma gli ucraini se sono d'accordo ma abbiamo stabilito che loro sono europei minori e va bene ma vorrebbe dire tornare alla guerra massiccia perché le nazioni nascono così abbiamo citato il processo che ha creato l'Italia il processo che ha creato l'Italia non si racconta quasi fosse naturale perché appunto ripeto la pedagogia nazionale non è scienza la pedagogia nazionale è cultura che è qualcosa di diverso per cui non vi è traccia ma se voi andate in uno dei non è bellissimo fare classifiche sui cimiteri ma certamente il verano di Roma è uno dei cimiteri più belli del mondo se voi andate al verano c'è un enorme monumento agli zuavi pontifici i zuavi pontifici hanno combattuto da italiani in larghissima parte contro l'unità d'Italia cioè l'unità d'Italia abbiamo citato il brigantaggio neanche a dirlo l'esercito delle due Sicilie non è che era composto da svizzeri mica era composto da finlandesi o norvegesi quelli che poi dalle a qualche anni avrebbero avuto il passaporto di italiani ed erano italiani di cultura ecco le nazioni nascono così c'è l'imposizione di una parte sul tutto la nascita di una nazione segue un processo che è sempre lo stesso la violenza iniziale che diventa sentimento una sorta di sindrome di Stoccolma che porta dall'imposizione iniziale alla creazione di un legame amoroso tra le parti fortunatamente peraltro anche qui in assenza dico in Italia in assenza di percezione strategica perché se noi interrogassimo qualsiasi italiano ma proprio qualsiasi gli chiedessimo se l'Italia ha un peso omogeneo ci direbbe no non ci penserebbe nemmeno cioè non ci sarebbe neanche ripassa tra un'ora che ci ragiono ma te lo dico subito è no è assolutamente no l'Italia è un peso eterogeno per eccellenza l'Italia è un paese senza alcun dubbio tra i più omogenei d'Europa difficile stabilirlo in assoluto quale possa esserlo ma l'Italia è senza dubbio un paese tra i più omogenei d'Europa gli italiani sono esattamente convinti del contrario perché l'Italia ha grandi differenze di sviluppo economico e civico ma non ha alcuna differenza ma non è un iperbolo è proprio alcuna differenza etnica ed è un lusso assoluto non esistono altre etnie in Italia oltre a quella italiana che molti paesi non hanno ma non paesi su Marte al di là delle Alpi la Germania è composta anche da etnie diverse la Baviera si chiama Stato Libero di Baviera ed ha partiti propri la CDU quando deve andare in Baviera non può farlo da sé deve farlo appoggiandosi al partito omologo bavarese i bavaresi non si sentono tedeschi durante l'ultima pandemia i bavaresi hanno detto chi ha portato il virus in Baviera i tedeschi cioè gli altri non loro che sono bavaresi e non solo vogliamo farla per capirci meglio la Germania è spaccata a metà tra confessioni c'è una metà cattolica e una metà protestante l'Italia non è nemmeno pensabile attenzione in geopolitica non si parla mai dell'aspetto spirituale che pertiene alla sfera intima delle persone ma l'aspetto culturale l'Italia sono tutti cattolici culturalmente anche chi è ateo in Germania no in Germania anche chi è ateo o è ateo in modo cattolico o è ateo del dio protestante che è lo stesso ma raccontato in maniera diversa ma potremmo proseguire la Spagna neanche ve la cito la Spagna c'è da c'è da farsi tremare i polsi è stata citata più volte la Gran Bretagna la Gran Bretagna è composta da nazione è un residuo dell'imperio inglese quegli inglesi che dominano gli altri che di sotto non ci vogliono manco più stare gli altri a parte i gallesi poverini che non hanno mai voce in capitolo sono l'unica parte del Regno Unito che ha neanche una sua chiesa nazionale sono anglicani che il latino vuol dire inglesi quindi potete immaginare che smacco questo per dire che cosa che l'Europa è composta da nazioni vere che si sono create in forma eccezionale attraverso la violenza e poi sono diventate sentimento in alcuni casi non sono neanche nate cioè sono composte da diverse nazioni al loro interno e non è neanche il nostro caso anzi l'Italia spesso a me quando viene chiesto quale può essere il punto di partenza di una strategia italiana è riconoscere l'omogeneità del nostro paese è chiaro che un milanese e un siciliano sono molto diversi nell'accento nello sviluppo civile ed economico ma non lo sono sul piano etnico e non è un dettaglio non hanno nessuna differenza neanche sul piano strettamente visivo molte nazioni sono composte da enormi differenze visive che creano razzismo patente immediato esempio bianchi e neri insomma per dire l'esempio più drammatico e più scemo fra gli esseri umani che porta al razzismo più idiota che quello fra bianchi e neri ma anche semplicemente fra alti e bassi biondi e scuri l'Italia le ha di tutti i tipi a tutte le latitudini e sono quasi tutti simili peraltro ma si percepiscono da bravi italiani diversissimi tra lo sghignazzare degli altri europei che loro sì diversi lo sono veramente e si divertono perché loro una strategia spesso ce l'hanno ad aumentare la nostra diversità se voi chiedete ad un tedesco vi dice gli italiani sono molto più diversi dei nostri ma bleffa perché sa che gli italiani ci credono anche cioè i catalani non sono spagnoli i baschi non sono neanche indoeuropei voi immaginate l'Italia se avesse due o tre regioni accorpate fra di loro le più produttive sul piano industriale peraltro insieme alla Catalogna che non sono indoeuropee non è che non sono italiane parlano una lingua il basco non è una lingua neanche non è una lingua latina non è nemmeno indoeuropea non si sa precisamente neanche da dove provenga e noi queste cose non ce le abbiamo fare l'Europa vorrebbe significare creare una sola nazione da tutto questo attraverso la violenza è sempre stato fatto in Europa mai cioè non siamo arrivati ad una nazione europea non so se può essere un progetto percorribile io credo che ciò che sia necessario visto che l'Unione Europea cioè l'integrazione comunitaria è un'idea originariamente americana profondamente americana cioè non europea non a caso perché alla fine quello che viene raccontato anche qui dalla propaganda è che alla fine della seconda guerra mondiale i francesi i tedeschi occidentali si sono guardati nelle palle degli occhi e hanno detto ma perché non possiamo amarci quando più o meno ci viene raccontato questo quindi Schumann poi ogni tanto buttiamo dentro un padre fondatore italiano Spinelli come se gli italiani avessero avuto voce in capitolo reale perché noi abbiamo anche questo ce ne ho raccontato che sono le idee che si può certo perché gli altri prendono la tua di idea se non ti considerano sanno a sentire quello che dici anche se hai l'idea migliore figurarsi però lo facciamo finta di crederci e va bene ma non è che i francesi e i tedeschi si siano amati improvvisamente gli americani erano costretti ma proprio costretti proprio letteralmente non è un modo di dire insomma tutti i francesi di fare l'asse renano con la Germania non ci pensavano per niente l'obiettivo francese era il medesimo della fine della prima guerra mondiale impedire alla Germania di rinascere non l'asse gli americani spiegarono veramente a brutto muso ai francesi che stavolta questo non era possibile perché altrimenti gli americani avrebbero controllato male la parte occidentale dell'Europa e questa avrebbe potuto scarrellare in quella orientale così nasce l'integrazione comunitaria attraverso in posizione violenta Robert Schumann inserito tra i padri fondatori sembra andato a leggere dell'Europa della mitica Europa sembra andato a leggere ciò che scriveva dei tedeschi tra l'altro lui dichiare origini tedesche il cognome fa calzolaio ma se andate a vedere che cosa scriveva Robert Schumann dei tedeschi insomma altro che padre fondatore dell'Europa non esattamente quindi ci dobbiamo accontentare già è molto di vivere in un forum europeo quindi un luogo in cui in maniera grazie a Dio più o meno non violenta le nazioni europee queste sì che esistono veramente perseguono i loro interessi e tendono a comporli in alcuni casi in altri casi meno in alcuni casi sì nell'altrettanta consapevolezza che non è un'organizzazione sovrana non solo perché detto ci sono le nazioni ma perché appartiene agli Stati Uniti non può esistere un'organizzazione senza l'aspetto militare nelle collettività e le forze armate europee tutte nessuna esclusa sono parte della Nato sono ancillari a quelle statunitense sono state pensate per agire sotto gli americani se noi provassimo i francesi ogni tanto si divertono perché per i francesi l'esercito europeo vuol dire pagato dai tedeschi e dominato dai francesi ogni volta che ci pensano gli viene risposto che non si può fare quindi l'Europa è più o meno questa meglio che ci sia sicuramente sì ma non carichiamola di qualcosa che non può essere da ultimo e chiudo a me fa molto sorridere quando gli italiani scoprono che gli altri europei non ci vogliono questa è una cosa che a me fa perdere vuol dire proprio non essere mai usciti di casa cioè proprio noi l'ultima volta che siamo usciti di casa era un centinaio d'anni fa perché ricorderete quest'estate quando abbiamo scoperto cadendo dal pero che gli olandesi non hanno un'idea altissima di noi che prestarci i soldi non è una cosa che proprio li rende li rende felici non è che escono per strada ignudi abbracciandosi fra di loro all'idea di prestare i soldi agli italiani ma noi ce ne stupiamo ma perché perché hanno questo atteggiamento nei nostri confronti infatti non so quanti di noi si fiderebbero a prestare i soldi agli italiani non credo moltissimi anche dei presenti che sono tutti italiani oggi quindi biasimare gli olandesi per questo mi pare troppo ma scoprire che per noi gli olandesi non siamo esattamente a loro livello vuol dire non averne mai incontrato uno e la percezione di una nazione non è data dalle elite perché le elite sono spersonalizzate per eccellenza sono più simili fra di loro una persona che compongono le elite più simile ad un altro membro dell'elite straniera che invece ad un elemento della stessa collettività che vive sul monte cioè io che sono membro dell'elite che mi definisco intellettuale io no per carità ma chi ci crede si definisce veramente intellettuale ha molte più cose in comune con un altrettanto intellettuale di Oslo che non con la massaia della Basilicata che però è quella massaia che resta nella storia cioè la percezione della cultura italiana è una percezione mediana come di tutte le culture non è quella ibrida perché poi noi ce ne raccontiamo di tutti i tipi e gli scambi tra gli esseri umani hanno sempre prodotto cultura sì benissimo ma hanno anche sempre prodotto violenza cambiamo allora poi mi è stato chiesto la vicenda appunto va dall'ultima domanda se il fatto che noi abbiamo meno voce in capitolo è perché la nostra cultura è una cultura di importazione così per essere molto non lo so questa è una domanda molto complessa sinceramente alla quale non so dare una risposta mi convince fino a un certo punto però devo dire nel senso se noi prendiamo gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno una cultura di importazione che non è loro in assoluto nascono dall'Europa dei Lumi tutti i mitici i padri fondatori americani un po' sovraccaricati di capacità e intelligenza ma comunque certamente un gruppo di intellettuali fuori dal loro tempo erano imbevuti di cultura illuministica quindi non anglosassone né tantomeno statunitense sebbene poi la rivoluzione francese sia leggermente successiva a quella americana è comunque il movimento dei Lumi ad ispirare in buona parte la rivoluzione americana per il riconoscimento anche degli stessi statunitenti insomma la Francia è la nazione gemella degli statuniti Francia è l'unico paese nei confronti del quale gli statuniti hanno un complesso di inferiorità e consentono ai francesi di dire di loro e fare cose che non consentono essenzialmente a nessun'altra nazione per cui non so se basti non avere una cultura propria per essere meno influenti se ho ben capito l'obiezione a volte sì ma non sempre questo accade l'ultima domanda è quella se possiamo utilizzare la Gran Bretagna in funzione antifrancese anche qui vado per sommi capi riducendo la risposta è nì nel senso che noi abbiamo l'Italia si è molto trastullata storicamente nella seconda metà del novecento su questa opzione tattica usare la Gran Bretagna in funzione antifrancese anzi antiasse franco tedesco addirittura quando negli anni settanta nel settantadue c'è il referendum con cui la Gran Bretagna accede all'epoca alle comunità economiche europea peraltro dopo una lunga anticamera perché i francesi li hanno fatti aspettare per una vita De Gaulle prima ancora era fortemente contrario addirittura per questo hanno dovuto aspettare poi gli anni settanta tra l'altro quel referendum del settantadue è il primo referendum che vedono i britannici che non avevano mai visto un referendum in tutta la loro storia non avevano mai partecipato ad un referendum pezzatuppo l'Italia gera un bel pezzo avanti sui referendum i britannici che sono il paese della democrazia parlamentare eccetera eccetera lo scoprono nel settantadue e all'epoca l'Italia che cosa dice noi siamo tra i maggiori sostenitori dell'ingresso della Gran Bretagna nella comunità economica europea proprio per quello che dicevamo poco fa perché noi possiamo utilizzare la Gran Bretagna come contraltare all'asse franco-tedesco ci siamo detti ma gli inglesi che fanno si appiccicano i francesi e i tedeschi no avranno bisogno di noi certo noi in posizione ancillare come partner del minore eccetera eccetera però ci può tornare utile poi ci siamo rimasti molto male perché gli inglesi non ci vendevano sul serio anche lì ma di che cosa rimanerci male cioè non averli messo gli italiani hanno un complesso di inferiorità verso gli inglesi che credo sia insuperabile ed una passione smodata per Londra anche questa più o meno incomprensibile non esattamente ricambiati però dagli inglesi che ci vedono un po' tipo degli allegri subumani più o meno però noi eravamo convinti come se non esistessero i codici i codici antropologici che lo fanno anche sorridere ma sono fondamentali non è che non esistono in fondo le nazioni che cosa sono sono esseri umani aggregati non sono altro sono esseri umani invece immaginiamo di parlare con dei robot i codici antropologici gli stereotipi i razzismi le interpretazioni sono decisive quando l'Italia nell'84 supera per PIL la Gran Bretagna ed è certamente il momento più alto della nostra economia è vero che all'epoca i governi italiani se ne vantano anche giustamente gli inglesi che cosa dicono davanti ad un dato del genere che i dati sono truccati è impossibile dicono era il momento della Gran Bretagna che si era industrializzata eccetera eccetera quindi viveva una fase di grande introversione economica e se andate a vedere i ritagli dell'epoca ma non gli inglesi al bar gli esponenti del governo inglese dicevano che sono poi gli inglesi al bar cioè la stessa comunità non è che vengono da Marte dicevano ma i dati vi dettete gli italiani li avranno truccati ecco pensare di fare l'asse con la Gran Bretagna in funzione antifrancese o antitedesca è un vasto programma che sul piano grammaticale potrebbe anche non fare una piega ma poi si scontra con chi ti fa fare anticamera cioè che prima di riceverti ti fa aspettare sette ore in sala d'aspetto e quando ti fa mettere seduto non vede l'ora che te ne vai è un po' complicato gli inglesi gli assi alla pari con noi è molto molto dura non hanno la concezione di noi come esseri umani sono esattamente identici a loro ecco mettiamo la cosa grazie dottor Fabri questo passaggio mi induce a svolgere una brevissima considerazione circa diciamo tanto per restare argomenti anche molto vicini nel tempo alla irrilevanza del sovranismo più che un argomento contestabile è proprio diciamo irrilevante dal momento che non tiene conto poi di quali sono gli elementi materiali che compongono la sovranità di uno stato cioè la sua capacità di decidere autonomamente come collocarsi sullo scenario cosa fare quindi è chiaro che approfondire questo tipo di tematiche anche con l'aiuto suo e di esperti come lei con questa profondità può servire da solo senza retorica ma solo come appunto formazione quella che facciamo a noi a capire come tante tante cose che fanno parte anche del nostro dibattito comune siano fondamentalmente basate su nulla basti solo a dire a proposito di questo come lei ricordava l'unità del paese si è fatta con il sostegno e l'aiuto di due superpotenze una delle quali tanto per chiudere e passare poi la parola agli altri interventi era diciamo la principale istruttrice della Gran Bretagna era la principale istruttrice della Marina Borbonica certo poi è mancato completamente tanto per dire un'opposizione perché quando gli ufficiali sono formati sul mare con Nelson e compagni evidentemente è difficile che poi dopo prendi scelte prendi decisioni che vanno contro a quello che i tuoi compagni normalmente farebbero quantomeno sei prevedibile questo per dire insomma che lo studio di questi elementi era solo uno di colore ma serve a capire come effettivamente le possibilità di scelta di una comunità dipendono molto dalle condizioni materiali nelle quali essa si trova e nei rapporti che ha costruito detto questo passo la parola tra gli ultimi due interventi prima della sua ultima prego Michele Borello ho attivato l'audio mi chiamo Michele Borello mi ha interessato quella premessa culturale sulla talassocrazia e mi ha anche ricordato un episodio di circa dieci anni fa io ho assistito alla visita di Benedetto XVI in Calabria e Benedetto XVI nella giornata in cui io l'ho visto ha visitato una piccola frazione e una piccola chiesa dove è andato a trovare un santo quasi dimenticato cioè San Fantino e si è soffermato ha reso omaggio una lunga preghiera poi nella stessa chiesetta ha regalato un medaglione d'oro alla Madonna dell'Alto Mare e questo lo dico perché San Fantino non è soltanto un santo dimenticato ma un santo che oggi si direbbe politicamente scorretto perché il miracolo per cui è ricordato è quello di aver fatto affondare navi saracene causando la morte dei marinai che si trovavano che si trovavano a bordo che forse avrebbero potuto attaccare le coste italiane ma forse no insomma erano navi che non si sa se fossero di passaggio oppure se stessero attaccando le coste quindi un santo politicamente scorretto e poi la Madonna dell'Alto Mare è un simbolo della paura del mare che appunto hanno gli italiani ma forse ha citato la Sardegna forse ancora più della Sardegna hanno i calabresi dove fino a 50 anni fa persone che abitavano in paesi che vedevano il mare non sapevano nuotare quindi non facevano neppure il bagno sulla spiaggia 50 anni fa in molti appunto per questa paura del mare ricordo questo episodio anche perché il giorno dopo sono andato sui giornali a cercare i commenti mentre invece ho trovato soltanto qualche trafiletto eppure la notizia c'era perché si trattava di una posizione dissonante di un Papa nei confronti di quello che è un mainstream circa i rapporti tra cattolicesimo e Islam circa i rapporti sì tra la terraferma e il mare tra la cultura e il mare ora io chiedo se non è riuscito un Papa a smuovere un dibattito su questi temi è difficile che ci sarà facciamo l'ultima domanda sì buongiorno dottor Fabio buongiorno io mi ricollego al tema al tema del mare per per chiederle per chiederle una cosa perché ho sentito prima dire l'Adriatico è un mare morto ma se vediamo la posizione della Cina e tutti gli episodi che dalla firma dell'MOU alla visita del presidente Xi nel nostro paese sembrano orientati in un'altra direzione l'Adriatico dal mio punto di vista può ancora dire la sua e lo si vede con col porto di Trieste può dire la sua anche in una versione europea che era stata anche prospettata da Paolo Costa quando era ministro insieme a professor Maurizio Maresca in una versione europea di Ravenna Venezia Trieste Rieca e Capodistria uniti in una in una trazione se vediamo se vediamo la via della seta marittima come punto di ingresso delle merci all'interno del nostro paese per cui dico dato che ci sarà recovery ci saranno dei miliardi da investire nel nostro paese perché secondo lei non si punta non sento molto parlare di investimenti infrastrutturali al nord al nord come ha detto lei prima il problema ferroviario dei collegamenti est-ovest ma collegamenti io dico a nord devi passare i vali chialpini e quindi dato che non solo l'export è un terzo del PIL ma è anche possibilità di sviluppo per il nostro paese perché non investire in questi porti e anche nelle infrastrutture soprattutto ferroviarie per portare la merce verso il centro il cuore dell'Europa grazie prego dottor Fabio grazie a voi adesso provo intanto rispondo a questa perché non ho infatti le chiedo a gentilezza se può in fondo quale sia la domanda la prima domanda non so se se lei la può sintetizzare cioè non posso rispondere direttamente a questa e poi le chiedo se perché forse l'ho compreso male io quale sia poi il ruolo del Papa eccetera per quanto riguarda invece quest'altra domanda quella riguardante l'atriatico e la possibilità di svilupparne le infrastrutture intendo dire maremorto nella accezione che se ne fa non perché lo sia tutt'altro ma spesso l'atriatico viene considerato un vaccino proprio perché così chiuso tra le varie sponde d'Europa secondario ma come dicevo ad esempio a partire dai cinesi l'interesse non è per nulla secondario anzi c'è un rinnovato interesse è stata citata anche Ravenna correttamente ma soprattutto per Trieste ma stesso risalire da Trieste passando per uno sviluppo ormai soltanto sognato intendiamoci di Venezia eccetera rende rende l'atriatico tutt'altro che un mare chiuso e soprattutto morto che si può fare con i soldi ricordi per fante in merito alle infrastrutture ma si possono fare un sacco di cose diciamo così credo sì sono d'accordo sarebbe eccezionalmente importante creare le infrastrutture di collegamento tra l'est e ovest del nostro paese non soltanto al nord e di farlo attraverso le infrastrutture inevitabilmente viene da sorridere per quanto banale ciò che sto dicendo quindi sì sono d'accordo non so dire quanto è questo sarà realmente perseguito sia in questo senso sia per fare da cerniera come diceva anche lei tra il nostro di paese quindi il nostro nord in quel caso il centro dell'Europa che può poi tornare utile anche al nostro paese sappiamo anche dobbiamo essere molto onesti che la costruzione di infrastrutture in Italia è sempre molto controversa non solo la progettazione la realizzazione i fondi eccetera eccetera ma è molto controversa perché c'è tutta la questione del non nel mio giardino not in my backyard come si dice in inglese per cui le infrastrutture le vogliono tutti ma possibilmente lontane da casa e questo poi crea una sorta di come dire opinione negativa nei confronti di quasi tutte le infrastrutture delle quali si discute all'infinito addirittura se abbiano mai un'utilità per poi non realizzarle mai possibilmente quindi sono sempre molto scettico quando si tratta di infrastrutture in Italia sarei lieto di essere smentito poi chiedo nuovamente ma mi avete detto ho mal compreso io per rispondere in maniera poi corretta e precisa quale fosse la domanda specifica in riferimento alla Calabria e al ruolo del Papa sì la domanda anche brevemente sì se quella se quella posizione può essere considerata come la sottolineatura di un confine e che speranza ci sono di suscitare un dibattito sul rapporto che in Italia abbiamo con il mare dato che per esempio in quell'episodio nessuno ha colto il gesto simbolico di un Papa ed è rimasto completamente in silenzio io so di questo episodio perché ho assistito ma altrimenti né dalla televisione dai giornali lo avrei appreso poi chiaramente l'ho raccontato perché mi pare che sottolinei quello che lei ha già detto ok adesso perfetto io stesso non conoscevo l'episodio quindi la ringrazio anche per questo quanto questo possa tradursi in un dibattito in Italia beh credo che la risposta sia quasi implicita nella sua domanda non lo so sarebbe molto bello se fosse così ne dubito in realtà questi temi dal mare in giù per intenderci adesso che oggi abbiamo parlato molto di mare al di là di quello che lei correttamente diceva questi temi non si dibatte granché obiettivamente non sono all'ordine del giorno in alcuni casi anche perché c'è altro a cui pensare l'Italia non è un paese che se la passa benissimo usiamo un eufemismo sul piano economico e sul piano demografico un paese che perde popolazione un paese che è in declino economico non è in crisi che sono due cose un po' diverse noi ce le raccontiamo spesso come crisi ma non sono un paese che ha i dati di un paese declinante e non in crisi per cui a volte tendiamo per ragioni come dire insuperabili strutturali a occuparci soltanto del contingente perché abbiamo necessità di sopravvivere però questo lascia totalmente fuori i dibattiti di largo respiro che possano essere strutturali o riguardanti questioni che vanno poi oltre il quotidiano insomma sono discretamente pessimista come lei può facilmente intendere non so se hai risposto alla sua domanda ma credo che mi stupirei ecco se tutto questo conducesse ad un dibattito diverso anche ad una svolta al riguardo grazie grazie dottor Fabri la ringrazio veramente per questo questa lezione che come anche Stefano Cuffanti ha evidenziato ha il merito di ricondurre tanto alla realtà e di tenerci un po' fuori dai rischi ecco della della retorica che della quale ecco questo aspetto culturale forse lei non lo ha evidenziato ne pare che si tenda un po' a caratterizzare spesso il nostro aggiornamento politico quindi un difetto grave di pragmatismo che invece non non ci abbina ecco non ci associa minimamente ai nostri fratelli europei che invece lo usano giustamente questo tipo di di approccio serve a far capire quello che poi effettivamente è quali sono le possibilità per tornare giustamente ogni tanto bisogna anche chiedersi pur sapendo che è una domanda quasi retorica cosa possiamo fare questo è lo spirito che anima il nostro corpo quindi nel nel ricordare a tutti i partecipanti la prossima lezione che sarà quella inaugurale diciamo del blocco sul lavoro e noi ci gioveremo siamo un corso di formazione ci gioveremo dell'aiuto di due nostri corsisti ecco 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 Francesco Lauria con il suo lavoro su Don Milani quel filo teso tra Fiesole e Barbiana e Costantino Corbari che insieme a Santo Antoniatti che presiderà la tavola ha scritto lavoro e cristianesimo un lavoro di cui ci siamo già occupati in altra sede ma anche ci sembrava importante abbinare questo rapporto sul lavoro e cristianesimo lavoro e cultura cristiana quali sono i legami che ci sembra il momento l'elemento migliore per cominciare quel blocco questo vi rimando dunque al 9 gennaio come credo alle 10 secondo le consuente modalità ringrazio il dottor Fabio ancora una volta per la grazie a voi ah è stato un piacere è stato un piacere è stato un piacere durante l'anno magari su altre tematiche volentieri come l'ho detto l'approccio geografico geopolitico noi ci interessa molto questo Porto ne ha fatto un punto fermo da qualche anno e intendiamo continuare auguro buon Natale a tu a tutte le persone grazie buon nuovo anno speriamo scusa Luca prego sono una cosa dato insomma per dire da cosa è stato ispirato il dibattito di oggi l'incontro ne approfittiamo per sponsorizzare l'ultimo numero non abbiamo scoperto normalmente lo facciamo qui mancava il testo esatto ne approfitto l'Italia è il mare ma non sa che farsene modeste proposte per ritrovare le onde perdute il penultimo numero almeno almeno si vede da che cosa la fonte no? da che cosa una ottima rivista è l'immagine con l'Italia insomma viene subito all'occhio il Mediterraneo ecco per chi vuole penultimo numero invece l'ultimo è la è sull'America se non sai tempesta sull'America esatto è uscito ieri vi ringrazio molto grazie grazie ancora alla prossima allora saluto a tutti arrivederci grazie mille a voi grazie grazie grazie